Ok, perfetto. La registrazione è in corso. Benissimo. Buongiorno a tutti e benvenuti a questa mattinata. Quali professioni per la filosofia? Un incontro organizzato dal Dipartimento di Filosofia Martinetti per offrire agli studenti una riflessione comune sui possibili sbocchi professionali dei nostri due corsi di laurea in filosofia e in scienze filosofiche. È un'attività che si è già svolta in passato, purtroppo si è svolta in presenza quest'anno, non è possibile farlo. Abbiamo scelto questa nuova e ormai comune modalità. C'erano state altre giornate in questo senso. L'idea era sempre quella di mettere in contatto gli studenti con delle figure professionali che esprimono dei possibili sbocchi lavorativi per i nostri laureati e dialogare insieme nei due sensi, cioè permettere ai futuri laureati di avere un'idea più chiara, più concreta e anche più articolata dei possibili sbocchi professionali del nostro corso di laurea che, lo sappiamo, è un doppio corso di laurea che ha una vocazione eminentemente culturale ma che da un punto di vista poi concreto conduce a un primo avvio al mondo del lavoro e anche dall'altro punto di vista permetterà delle figure del mondo del lavoro di scoprire le ambizioni, le curiosità, gli interessi dei nostri laureati. Quindi il titolo è Quali professioni per la filosofia e questo per va nei due sensi. Ecco, quali professioni per i laureati di filosofia e quale filosofia per le professioni. Diciamo, cercheremo di mettere in luce questa doppia qualità a partire di un vero e proprio dialogo. Abbiamo invitato alcune figure, poi le presenteremo in dettaglio e vi dirò un po' le ragioni di queste scelte e le ringrazio fin d'ora per aver deciso di partecipare. Ringrazio anche tutti gli studenti che vedo qui numerosi collegati. Lasciare però la parola per una brevissima introduzione e un saluto al direttore del Dipartimento, il professor Luca Bianchi, che ringrazio anche di essere venuto qui con noi questa mattina. e appunto, Luca, a te la parola per dire anche le ragioni più ampie di questo nostro impegno per illustrare ai nostri studenti, anche in questo momento particolarmente difficile, in che senso i nostri due corsi di laurea hanno, oltre che una vocazione culturale, è una vocazione professionalizzante, in termini non è particolarmente bello, ma è quello che definisce più chiaramente le ambizioni dei nostri due corsi di laurea. A te Luca. Grazie, buongiorno a tutti. In realtà Alberto ha già introdotto ampiamente questa nostra iniziativa, sono molto lieto che si riesca a condurla anche quest'anno. Noi è già da qualche anno che abbiamo programmato questi incontri e abbiamo trovato che siano molto interessanti, hanno riscosso successo presso i nostri studenti. Abbiamo indicato nel nostro piano triennale del Dipartimento questa iniziativa come una delle iniziative importanti che noi facciamo e che offriamo ai nostri studenti. Quest'anno era particolarmente difficile organizzarla, ma grazie a Alberto Frigo, che ringrazia molto, siamo riusciti. Grazie anche alla disponibilità di tutti coloro che oggi sentirete intervenire. Penso che sia molto importante una riflessione sugli sbocchi professionali dei nostri studenti, in particolare in un momento che è delicato per due motivi. Uno è quello che tutti conosciamo, è difficile immaginare il futuro professionale non solo dei lavorati in filosofia in questa fase, viviamo una fase eccezionalmente complessa, ma d'altra parte ricordo che proprio in uno degli incontri che abbiamo fatto, credo il primo, un paio di anni fa, su questo tema, ci era stato autorevolmente spiegato che noi non siamo nemmeno in grado di immaginare quali saranno le professioni che molti giovani faranno fra solo una decina d'anni. La situazione di crisi che viviamo, da un certo punto di vista, accelererà alcuni processi e rappresenta una sfida. Per quanto riguarda noi, poi come molti studenti sanno e anche come molti dei partecipanti a questa discussione di stamattina sanno, siamo all'indomani di una riforma abbastanza profonda, in particolare per quanto riguarda la laurea triennale, del nostro ordinamento. Abbiamo approvato, gli ultimi atti formali li coprieremo nei prossimi giorni, una riforma dell'ordinamento e del regolamento della triennale e solo del regolamento per la laurea magistrale, dando una struttura più definita, in particolare ai primi anni del corso triennale, nella condizione che sia importante avere una formazione di base che poi consenta agli studenti di compiere scelte più consapevoli negli anni di formazione poi successiva. È anche questa un'opportunità che noi diamo ai nostri studenti e devo dire che l'abbiamo realizzata in sintonia con le parti sociali e con il comitato di indirizzo, il cui apporto è stato molto importante. Non vorrei sottrare altro tempo alla mattinata, quindi ringrazio tutti coloro che hanno accettato il nostro invito, ringrazio nuovamente Alberto Frigo che condurrà questa giornata e vi presenterà i vari relatori. Grazie. Grazie mille, grazie Luca per aver ricordato anche due dispositivi che sono in atto nell'attività del dipartimento, che sono il comitato di indirizzo e le consultazioni delle parti sociali. Sono due dispositivi che ci permettono di tastare sistematicamente, periodicamente il polso, sono delle riunioni che noi facciamo con delle figure, alcune di quelle che vedrete stamane sono membri appunto o del comitato o delle parti sociali, che adesso si chiama parti interessate, insomma sono delle riunioni periodiche che noi facciamo appunto per tastare il polso e per avere un dialogo costante sull'evoluzione del mondo del lavoro e quindi l'evoluzione anche dei possibili sbocchi lavorativi per i nostri studenti. Come vi dicevo è una mattinata articolata in vari momenti, vi illustro brevemente riprendendo la locandina gli interventi, anche la natura degli interventi, per indicare anche la natura degli interventi. Avremo due interventi iniziali di carattere più diciamo generale introduttivo, uno di Uberto Minghi, che è un funzionario per il sistema formativo e capitale umano di Assolombardia, che quindi ci presenterà in maniera più ampia il panorama del mondo del lavoro in Lombardia, in particolare, e le possibilità di inserimento dei lavorati non soltanto in filosofia, ma più in generale in discipline umanistiche nel quadro appunto dell'ambiente di Lombardo. E con qualche dato la mano e anche con qualche, se ho capito bene le sue indicazioni, qualche nota, come dire, critica o non soltanto, ecco, che va un po' contro una vulgata che spesso ci viene offerta anche nell'ambito del mondo della comunicazione. E subito dopo lasciamo la parola al dottor Schiavone, che sostituisce Emiliano Santini per rappresentare il COSP, che è il centro funzionale di Ateneo per l'orientamento allo studio e alle professioni, quindi è un elemento, diciamo, del nostro Ateneo che si occupa in maniera costante, molto attiva, qualcuno di voi, tra gli studenti, probabilmente ha avuto l'occasione di confrontarsi già con questa istituzione, il COSP, appunto, ecco, si occupa in maniera molto attiva e molto efficace dell'orientamento post-laura e di quello che oggi viene chiamato con un termine inglese, placement, e quindi Aurelio ci illustrerà un po' le funzioni del COSP e ci darà qualche indicazione anche pratica su come profitto da questa istituzione che è molto attiva, appunto, all'interno dell'Ateneo e che molti studenti conoscono, ma forse non tutti, quindi è bene ricordarlo. E poi avremo una serie di interventi, diciamo, più mirati, degli interventi, appunto, che lasciano la parola a delle figure che vengono dal mondo del lavoro e delle figure eterogenee. Ecco, qui forse merita che spenda due parole per dire la ragione delle scelte di queste figure. Ecco, abbiamo scelto sia delle figure che esprimono degli sbocchi professionali, diciamo, tradizionali per le lauree in filosofia e in scienze filosofiche che delle figure un po' più estravaganti, diciamo, inaspettate. Ecco, per dare un'idea di quello che tipicamente uno laureato dei nostri due corsi di laurea può voler tentare di fare nel mondo del lavoro, ma anche qualcosa che magari non si aspessa e che potrebbe scoprire se è una via possibile. In questo senso abbiamo invitato Andrea Guerra che è amministratore delegato di Kube Partners, oltre che fondatore di questa, non so se si dice azienda, società, è un termine difficile per un'azienda appunto che si ha troppo di software, di software in particolare per la sicurezza informatica e per i finanziari, quindi appunto qualcosa che siamo un po' lontano dalla filosofia e avremmo sia la sua voce che una voce, diciamo, complementare, perché è la voce di Cecilia Di Luca che è una recentissima laureata del nostro corso in scienze filosofiche e che adesso si trova a lavorare fianco a fianco nell'azienda di Andrea Guerra e che appunto, Cecilia, se ci sei e ci fai vedere la tua immagine così possiamo già identificarvi. Eccoci, ci sei Cecilia? Sì, non mi vedete? Eccoci, adesso sì, ti vediamo, perfetto, grazie. E quindi ecco, avremo due voci, una voce, diciamo, dall'alto, una voce dal basso che ci descriveranno insieme una medesima realtà lavorativa un po' ecco lontana da quelle che ci aspetteremo per i laureati in filosofia. Seconda parte ecco del nostro incontro ci sarà poi con noi Franco Gallo che è un dirigente tecnico del Ministero dell'Istituzione che conosce molto molto bene, serve Franco, il mondo della scuola che appunto è uno sbocco lavorativo tipico. Ecco, Franco Gallo ha il merito non soltanto di conoscerlo molto bene direttamente ma di aver anche riflettuto in maniera critica sulla didattica della filosofia in particolare e in più in generale la didattica della scuola secondaria e quindi ha un punto di vista particolarmente articolato su cosa significhi imboccare la via dell'insegnamento per un laureato che ha studiato presso di noi dei corsi di laurea di filosofia e di scienze filosofiche e poi abbiamo con noi Lidia Salerno che è editor non fiction presso la casa editrice Rizzoli la grande casa editrice che tutti voi conoscete che ci parlerà di un altro sbocco professionale tipico per i nostri laureati che è quello del mondo dell'editoria e anche in questo caso abbiamo cercato di adottare un punto di vista non banale nel senso parlare delle nuove figure, delle evoluzioni che il mondo dell'editoria ha conosciuto negli ultimi anni e appunto un mondo che è molto molto cambiato anche a causa di alcune modifiche nel modo di produrre e distribuire libri e forse anche qui ci sono delle possibilità nuove che si aprono un po' inaspettate e sulle quali è bene riflettere Buongiorno a tutti Ciao Lidia e poi ecco forse se ci sarà tempo vedremo un po' come si svolge la mattinata prenderò la parola anch'io in conclusione per dire qualcosa su un altro sbocco che professionale non sembra ma professionale è che è quello ecco della carriera accademica nel senso di dottorati, post dottorati eccetera che appunto viene difficilmente categorizzata sotto sbocchi professionali ma in un senso o lato sul quale magari cercherò di dire due parole va considerato come tale perché appunto si tratta di anni in cui si percepisce uno stipendio e ci si avvia in maniera un po' spericolata ma spesso efficace verso un ambito lavorativo concludo queste presentazioni con un paio di informazioni tecniche ci proporrei di fare diciamo un doppio turno ecco fare i primi tre interventi di Uberto Minghe, Emiliano Santini e Andrea Guerra e Cecilia De Luca insieme poi una breve pausa e gli interventi seguenti per quanto riguarda poi lo svolgimento effettivo l'incontro è anche un incontro di dialogo quindi gli studenti possono intervenire direi che possono intervenire sia durante gli interventi dei vari relatori formulando delle domande nella chat che poi raccoglieremo e proporremo ai relatori sia alla fine diciamo di ognuno dei due blocchi con un dialogo più generale vi chiederei di usare soltanto la chat per le domande per semplificare la gestione in maniera tale da non avere degli incroci di voci e delle sovrapposizioni che rendono un po' difficile il dialogo vi chiedo anche fate già tutti perché conoscete ormai bene lo strumento di tenere audio e video spenti durante le presentazioni degli altri ultimo elemento pratico i rappresentanti di studenti ci hanno già fatto per venire alcune domande quindi anche quelle verranno integrate nel dialogo con gli invitati credo sia tutto e quindi ringrazio di nuovo Luca per essere stato qui presente per questa introduzione direi che possiamo dare la parola al primo degli interventi che è quello di Iberto Minghi che ringrazio e che se non è contrario all'opzione metterei in primo piano in modo che il suo viso sia più visibile e perfetto ah benissimo e quindi credo che vediamo già la presentazione eccomi qui io vedo a lei in questo momento professore è normale che sia così vero? è normalissimo anzi guardi io mi annullo come video per qualche secondo in maniera tale che lei abbia presentato grazie di nuovo e le lascio direttamente la parola con la presentazione perfetto buongiorno grazie ancora per l'ospitalità e per avermi invitato a questo incontro per noi di Assolombarda è sempre un'occasione molto preziosa quella di confrontarci con gli studenti e con l'università in generale è sempre un momento di grande arricchimento e quindi sono molto contento di questa presenza mi presento molto velocemente professionalmente parlando l'Assolombarda non Assolombardia ma Assolombarda è una associazione la più importante associazione datoriale di carattere territoriale italiana e fa parte della famiglia della Confindustria cioè la principale organizzazione appunto datoriale italiana ha una competenza interprovinciale Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia e quindi è un bacino di imprese molto consistente molto vario sia dal punto di vista quantitativo guardate 6.300 aziende che rappresentano quasi 4.000 dipendenti ma anche dal punto di vista della varietà del tessuto associativo che rappresenta perché noi rappresentiamo tutti i settori produttivi quindi dai settori tradizionali manifatturieri fino a quelli più avanzati dei servizi e anche per dimensioni naturalmente il grosso della nostra base associativa coincide sostanzialmente con la fisionomia del nostro stesso tessuto imprenditoriale quindi è fatto per la gran parte di piccole e medie imprese ma anche fanno parte della nostra famiglia diciamo associativa anche le grandi aziende e le multinazionali e anche le start up tra l'altro una categoria di piccola impresa molto interessante per i giovani tra l'altro che cosa facciamo? cosa fa la Solombarda? la Solombarda svolge un duplice ruolo da una parte è un'associazione quindi di rappresentanza quindi rappresentiamo gli interessi del nostro sistema produttivo associato nei confronti degli stakeholder esterni quindi le pubbliche amministrazioni a livello comunale, regionale e così via e poi forniamo anche tutta un'attività molto importante di supporto e assistenza alle aziende associate per tutte le problematiche legate alla gestione dell'azienda a 360 gradi perché sono qui? perché appunto io sono un funzionario di questa associazione e lavoro all'interno dell'area sistema formativo e capitale umano che è un ufficio dedicato della nostra associazione dedicato appunto alla gestione di rapporti di collaborazione con il sistema educativo del territorio relazioni e rapporti tra le nostre aziende e appunto le istituzioni educative quindi sia il sistema universitario ma anche il sistema scolastico e quello della formazione professionale c'è tutta una serie di attività noi tra l'altro siamo molto legati anche con Unimi con l'Università di Milano degli Studi dove siamo parte sociale siamo invitati quasi sempre nelle consultazioni quindi c'è una consuetudine diciamo ultra pluridecennale di collaborazione col sistema educativo per quale obiettivo quello di cercare di avvicinare il più possibile i due mondi il mondo della formazione in generale e il mondo del lavoro e delle aziende affinché ci sia quel famoso si dice tecnicamente quel matching tra domanda e offerta che faciliti poi l'inserimento efficace dei giovani qualificati nel mondo del lavoro propongo alcuni proprio flash velocissimi di scenario tra l'altro qualcuno l'ha già il professor Bianchi ha già giustamente insomma il primo messaggio che ci tengo a lasciare ai ragazzi è che il mondo del lavoro adesso è estremamente magmatico è molto instabile per tanti ragioni quelli contingenti legati all'andamento epidemico ma anche prima del Covid era già una tendenza a questo il fatto di essere il mondo del lavoro un universo molto liquido fatto di grandi trasformazioni dove ovviamente non c'è più la sequenza quella tradizionale del lavoro studio, lavoro, pensione quella ovviamente è scomparsa ma anche stanno cambiando profondamente i paradigmi del lavoro e anche il modo di lavorare delle persone dentro dentro le organizzazioni non c'è più diciamo come la realizzazione che durava tutta la vita che esisteva una volta e ci si sposta ci si sposta molto frequentemente sono sempre più frequenti soprattutto nelle persone giovani traiettorie multiple a volte con apparenti deragliamenti da percorsi precostituiti è assolutamente normale ed è una tendenza proprio insita nella fisionomia attuale del mondo del lavoro l'abbiamo già detto l'ha detto il professor Bianchi molto efficacemente cambiano i mestieri profondamente spariscono alcune aree di mestiere sempre di più e tenderanno a sparire quanto più il tasso di automazione industriale verrà introdotto ma allo stesso tempo nascono nuove professionalità in particolare ad alta intensità tecnologica per esempio appunto quelle legate alle tecnologie ne parleremo oggi perché c'è un rappresentante di un'azienda di tipo tecnologico quindi mestieri che scompaiono mestieri che si trasformano e che hanno un'immissione sempre più ampia di tecnologia e di innovazione quindi questo è un altro aspetto importante su cui far riflettere i giovani di un ambito umanistico come il vostro dalla tecnologia non ci si potrà liberare mai in nessun ambito anche in quelli più tradizionali apparentemente persino la scuola lo dimostra ragazzi che l'elemento tecnologico diventa assolutamente determinante e come dire un cardine un cardine della nostra identità professionale quindi aspetti tecnologici e aspetti di innovazione poi c'è un'altra cosa l'interroppo 30 secondi soltanto perché io ho imparato il lessico e per mare gli studenti non lo conoscono HR che vedo nella sua slide le funzioni risorse umane perfetto perché appunto ormai io da qualche mese avendo lo stesso documento di questo tipo sotto mano ma so che per le prime volte anche io ho spiazzato chiedo scusa è un acronimo per Human Resources questo vuol dire il comparto dell'ufficio del personale tra l'altro professore Frigo tra le domande che lei ci ha anticipato dei ragazzi c'era qualcosa se con una formazione filosofica i ragazzi potevano anche ambire a quel tipo di funzioni ne parliamo dopo c'è un qualcuno che sta che sento un po' di disturbo non lo so sì chiedo a tutti di chiudere l'audio se avete degli audio grazie grazie un'altra cosa importante su cui volevo far riflettere i ragazzi è quello dell'interdisciplinarietà perché anche questo è una tendenza molto importante del mondo del lavoro di oggi nel senso che i saperi i saperi non necessariamente quelli che si apprendono nelle istituzioni educative ma i saperi che si utilizzano nei processi lavorativi sono sempre più ibridati andiamo sempre di più verso una dimensione interdisciplinare dei saperi che sono sottesi appunto ai processi di lavoro e questo è molto importante per voi umanisti ragazzi che avete fatto un corso di laurea umanistico perché come dirò dopo ci si sta accorgendo che anche nelle dimensioni apparentemente più tecnologiche c'è bisogno anche di alcuni apporti chiamiamoli così più in generale di tipo umanistico che servono anche per risolvere alcune problematiche complesse l'esempio in particolare è quello di tutta la problematica del rapporto tra uomo e macchina vedete un altro acronimo professor Frigo IOT sta per Internet of Things cioè l'Internet delle cose e che definisce appunto tutto quello sviluppo tecnologico che consente di utilizzare degli utensili dei dispositivi utensili in chiave digitale e quindi connessi alla rete tutto questo implica un grande sviluppo di team di lavoro sempre più interdisciplinari perché le implicazioni non sono solamente di tipo squisitamente tecnico e tecnologico ma anche di tipo umano proprio di interazione e poi l'altra cosa il mercato quello del lavoro è un mercato ragazzi cosa vuol dire economicamente parlando vuol dire che c'è una domanda e c'è un'offerta quindi da un certo lato diciamo è un'opportunità perché è comunque un mondo molto ricco sicuramente vi ho detto effervescente molto magmatico molto liquido ma sicuramente ricchissimo di alternative di mestiere io le chiamo anche imprevedibili su questo poi ritorniamo dopo e anche persone che parleranno dopo di me però basato sulla legge del mercato cioè della domanda e dell'offerta nel senso che il mondo del lavoro ha delle necessità e in qualche modo dal punto di vista di capitale umano di competenze qualificate di cui ha bisogno che cerca appunto che ricerca nell'offerta disponibile che è composta dalle persone altamente qualificate che poi si immettono dopo gli studi universitari come farete voi nel mondo del lavoro e non sempre questo incontro è facilissimo ve lo dico anzi è un problema tecnicamente si chiama skill shortage nel senso che non si trova quello che c'è bisogno e si trova invece in abbondanza mismatch e si trova in abbondanza invece magari competenze che non sono prioritarie quindi è una problematica che continua a esserci e che in qualche modo dà il senso anche al nostro ruolo di dialogo e di collaborazione col sistema educativo andiamo avanti e le persone che fine fanno in tutto questo perché è questo il tema che a voi interessa propriamente allora qui c'è tutto il grande tema delle competenze di quali competenze servono allora in quel mondo del lavoro che così come vi ho in qualche modo delineato le competenze quelle dure quelle di dominio quelle disciplinari continuano ad essere importantissime guai a dire che non servono più ci mancherebbe altro ma sempre di più vengono date in qualche modo per scontate sono un prerequisito e ci mancherebbe altro che uno non fosse competente dal punto di vista disciplinare però aumenta allo stesso tempo il ruolo dell'importanza e il peso proprio specifico delle competenze trasversali qualcuno le chiama competenze morbide altri esperti di risorse umane le chiamano competenze di fusione le fusion skill cioè non solo la capacità di attivare dei comportamenti professionali legati alle discipline che si conoscono ma farlo in una dimensione di contesto di socialità e di relazione quindi le competenze trasversali poi lo vedremo adesso nella diapositiva successiva sono proprio quelle che facilitano in qualche modo i processi di lavoro e sono diciamo trasversali perché perché sono trasversali a qualunque ambito professionale un'altra cosa importante che sta avvenendo sempre di più è il tema la valorizzazione della coerenza tra l'area di attitudini nel senso che c'è una grande attenzione da parte dei selezionatori del mondo del lavoro di chi si occupa di risorse umane anche a livello appunto di selezione e valutazione in quella che si chiama tecnicamente diagnostica attitudinale cioè è sempre più importante inserire le persone in posizioni che siano consonanti dal punto di vista del loro profilo attitudinale perché perché le persone se svolgono un lavoro quanto più attitudinale è lavorano meglio lavorano meglio e con più efficacia e aumentano fondamentalmente la produttività quindi è molto importante perché è un come dire la competenza attitudinale è un aspetto win-win si dice vincono tutti vincono le aziende qualunque esse siano perché il dipendente il collaboratore lavora con più entusiasmo e con più motivazione e vince anche il dipendente stesso perché come dire lavorare su un'area attitudinale è fortemente motivante quindi è un elemento di incoraggiamento e di spinta di energia per crescere e tutto questo che cosa vuol dire è importante capire è che partendo dal presupposto come ho detto che tutta la parte disciplinare e quindi tutto il comparto del sapere duro tra virgolette viene dato o per scontato quello acquisito nei processi formali come state facendo voi all'università oppure viene somministrato nel percorso del nel rapporto di lavoro attraverso la formazione aziendale che sempre più tante aziende svolgono accanto a questo aspetto c'è un aspetto di soggettività in tutti i lavori in tutte le aree professionali e sono sicuro che tutti i colleghi che parleranno dopo di me saranno d'accordo su questo che dove l'aspetto appunto delle caratteristiche intime personali attitudinali di personalità di attitudine diventano fondamentali e su alcune posizioni diciamo di tipo più trasversale e meno tecnica addirittura diventano caratteristiche di rimenti che possono decidere appunto eventualmente il successo o l'insuccesso di un colloquio di lavoro o di un processo di assessment quindi soggettività andiamo avanti quindi vedete si valuta la persona non solo ciò che ha studiato quindi attenzione concentratevi naturalmente su quello che state imparando sui vostri saperi disciplinari però ricordate che sempre di più il mondo del lavoro si nutre anche di elementi legati proprio alla narrazione come dire a una visione posso dire olistica della persona cioè che comprende non solamente l'aspetto meramente educativo il lato diciamo della formazione formale ma proprio la sua interezza la capacità di essere una persona che ha sviluppato esperienze valori attitudini appunto molto precise e questo è appunto da innesca diciamo quella consapevolezza sulle competenze trasversali che sono tanto utili nel mondo del lavoro e il messaggio dopo è molto importante non bisogna spaventarsi o provare un senso di inadeguatezza rispetto a posizioni di lavoro apparentemente distanti dal curriculum di studio umanistico il professor Figo ha detto che ci saranno delle testimonianze come ha detto extravaganti sono felicissimo di queste testimonianze perché è esattamente così essendo il mondo del lavoro sempre più basato sulle caratteristiche personali chi ha queste caratteristiche in chiave attitudinale di predisposizione chiamiamola di forma mentis può aspirare anche a come dire legittimamente anche a posizioni apparentemente distanti da quelle previste dagli sbocchi professionali ordinamentali diciamo così tanto più per ragazzi che studiano studi filosofici come voi soft skill facciamo un pochino di esamina su che cosa sono queste benedette competenze morbide trasversali alcune le chiamano addirittura life skill perché perché sono tanto utili nel mondo del lavoro quanto nella vita stessa a prescindere dal contesto professionale diciamo tre aree principali quelle cognitive quelle sociali e quelle emotive leggiamole insieme perché molto vi riguardano da vicino tra l'altro come studenti di studi filosofici le competenze cognitive vedete fanno riferimento al come si prendono le decisioni come avviene quello che tecnicamente si chiama il decision making la capacità di risolvere i problemi la creatività è una competenza cognitiva quindi usare creatività anche per la risoluzione di problemi complessi la capacità di analisi di focalizzare un argomento e analizzarlo nel profondo e avere quel critical thinking quel pensiero critico che consiste tante aziende ci dicono noi abbiamo bisogno da parte degli umanisti non solo che abbiano la capacità in qualche modo di risolvere i problemi che sono culturalmente alla loro portata ma anche di porsi delle domande al momento giusto dove stiamo andando con la nostra strategia di business è corretta? ecco questo è quella capacità di pensiero critico che sicuramente voi avete esercitato e state esercitando e che anche in contesti aziendali quindi apparentemente lontani dal vostro mondo vengono utilizzate competenze sociali queste sono quelle più evidenti siamo in un mondo del lavoro che è in cui il tasso di socialità e di relazione si è molto accresciuto che questa relazione sia fisica o mediata dalla tecnologia come in questo periodo è fondamentale per cui tutte le competenze che hanno a che vedere con il rispetto con l'empatia il comunicare e esprimersi in modo efficace il creare relazioni efficaci vuol dire funzionali al mandato professionale diventano importantissime e poi tutto l'aspetto dell'emotività che è un elemento diciamo una famiglia di competenze trasversali estremamente importante e molto valutata quindi essere consapevoli di chi siamo in termini di punti di forza e in termini di miglioramento gestire in modo efficace i flussi emotivi nella dimensione della relazione e gestire anche lo stress e le turbulenze organizzative questi sono aspetti che vengono sicuramente valutati poi ci sono altre competenze trasversali che alcune aziende richiedono e per esempio l'accuratezza e la passione per il ben fatto quindi essere precisi e accurati nel proprio lavoro essere sempre professionali e meticolosi avere un mindset internazionale cioè avere una forma mentis aperta senza confini che ti fa pensare in chiave internazionale avere un'attitudine multiculturale che ha a che vedere poi strettamente anche con il rispetto perché sempre di più le aziende esattamente come le società sono sempre più degli organismi multiculturali dove quindi il tema della tolleranza del rispetto e della comprensione di sistemi culturali diversi dal tuo diventa una chiave professionale di efficacia professionale e l'attitudine digitale perché no ragazzi e questo lo chiedono tutti cioè pensare i processi di lavoro in chiave digitale come dicevo queste sono una disamina in generale chiaramente ogni azienda a seconda della propria policy e della propria visione ha il suo mix ideale di competenze trasversali che viene in qualche modo valutato e testato nei giovani collaboratori che si candidano a delle posizioni però è bene che voi teniate presente questo schema perché fondamentalmente le aree diciamo di diagnostica chiamiamole così sostanzialmente sono queste come competenze trasversali come si sviluppano questa è una domanda che spesso i ragazzi mi fanno quando sono in contesti di orientamento come questo allora sicuramente alcune competenze su alcune competenze diciamo la formazione formale cioè il processo universitario di formazione universitaria può aiutare laddove per esempio si utilizzano in integrazione alla didattica frontale quella meramente frontale strumenti di didattica attiva e cooperativa che in qualche modo cimentano attraverso attività laboratoriali esercitazioni su casi momenti di interazione anche di gruppo possano in qualche modo sviluppare abituarvi voi ragazzi anche all'esercizio di certe competenze però molto di queste competenze trasversali non si imparano attraverso le discipline eventualmente nel modo di impararle ma si imparano attraverso l'esperienza di vita e le esperienze personali quindi quali sono fondamentalmente alla vostra età quello che avete fatto proprio la vostra narrazione di vita le vostre esperienze se avete fatto lavoretti come si è svolta la vostra vita provate ad analizzare appunto il vostro percorso di vita in chiave di competenze trasversali fare i tirocini i tirocini ragazzi sono una cosa importantissima sono molto sono molto utili dal punto di vista orientativo non è detto che lo siano anche dal punto di vista concreto dell'inserimento nel mondo del lavoro ma sta di fatto che sono comunque degli strumenti siano essi curriculari o extra curriculari quelli post lauree uno strumento potentissimo di orientamento e di primo contatto con il mondo del lavoro soprattutto per chi di voi ancora non ha maturato mai nessun tipo di esperienza poi gli hobby tutto il mondo dell'attività amatoriale hobbystica però strutturata cioè che sia legato diciamo a un progetto per esempio una persona per esempio che è molto impegnata nel volontariato in progetti di volontariato per esempio persone che svolgono attività di tipo sportivo professionistico e così via perché sono tutti aspetti che anche a livello di curriculum servono da inserire perché un bravo selezionatore da questo tipo di informazioni può in qualche modo evincere l'esistenza almeno in nuce di qualche competenza interessante o di tipo trasversale o di organizzazione di leadership di comunicazione efficace e così via quindi servono queste cose ragazzi non sono cose da poco servono le esperienze di vita e poi tutte le esperienze di mobilità internazionale vi ho detto prima che tante aziende richiedono un mindset internazionale che non si esaurisce nella conoscenza nella competenza linguistica ma è qualcosa di diverso e più ampio ecco in questo senso l'aver partecipato ad esperienze di tipo di Erasmus di mobilità internazionale può sicuramente innescare quel tipo di visione e di appunto di formamenti che in molti contesti professionali serve quindi per quanto vi riguarda i laureati humanities all'inglese cioè del comparto umanistico il mio è un ragionamento più che specifico per voi che siete laureandi e studenti di filosofia proprio per il comparto umanistico sicuramente ce ne sono tanti anche nel mondo industriale anche a brevissimo raggio la mia dirigente responsabile è una filosofa quindi per dirvi che anche nel nostro mondo questo tipo di profili di laurea esistono sono sempre esistiti perché sono molto duttili sono molto spendibili quindi lo vedrete anche dalle esperienze dalle testimonianze che mi succederanno dal marketing alla pubblicità l'editoria le funzioni commerciali la comunicazione d'impresa la formazione la selezione e lo sviluppo delle risorse umane tantissimi molto presenti quindi sicuramente è un segnale di incoraggiamento altra cosa importante chi si occupa di gestione umana di gestione delle risorse umane si accorge che appunto gli apporti umanistici servono quindi come vi dicevo prima in tanti ambiti vengono volutamente inseriti degli umanisti soprattutto in ambiti in contesti aziendali molto tecnici dove di fatto esistono solo ingegneri si stanno accorgendo chi si occupa di HR appunto che inserire uno o due colleghi che hanno una formazione completamente diversa può giovare proprio alle dinamiche di team e alla sviluppo di appunto anche di idee di business più interessanti quindi sicuramente c'è un'attenzione ed è sempre più apprezzato appunto questo mix dei cervelli che vi dicevo quindi sicuramente la presenza dei allora ci sono tutta una serie di attività che sono queste prime dove da sempre laureati in filosofia stanno possono stare ma appunto la tendenza più moderna è proprio questa di essere inseriti gli umanisti anche in contesti apparentemente ipertecnologici dove servono appunto danno un apporto però che cosa dicevo prima ragazzi dicevo che è un mercato allora tutto questo tutte queste considerazioni che ho fatto prima l'ho fatto naturalmente per dare un incoraggiamento che è importantissimo però non posso negare che l'asticella è molto molto alta perché il mercato del lavoro in questo momento è fortemente fortemente orientato verso l'ambito STEM la richiesta la domanda di qualifiche di profili ad alta qualifica sono per la gran parte orientate verso l'ambito STEM cosa vuol dire STEM tutta l'ambito delle scienze della tecnologia della matematica della statistica dell'ingegneria questo è il grosso poi c'è una parte un pochino più ristretta quantitativamente che riguarda le humanities per cui la strada è in salita non posso dire a tutti voi che è tutto semplice sicuramente sono profili interessanti tra i profili posso dirvi che tra tutti i profili umanistici quello in filosofia è sicuramente uno dei più interessanti proprio per le caratteristiche culturali del laureato ma sicuramente c'è da lavorare perché comunque c'è proprio un tema di mercato del lavoro che è quantitativamente un pochino più ristretto rispetto ai vostri colleghi che si laureano invece in discipline scientifiche e tecnologiche quindi che cosa serve serve molta determinazione serve intraprendenza serve consapevolezza e serve soprattutto in cominciare a lavorare su un progetto professionale cominciarsi a porsi degli obiettivi quanto uno più diciamo è maturo da questo punto di vista e comincia a costruire pur in salita un progetto professionale da curare da coltivare e da progressivamente da seguire tanto più saranno le chance di riuscirci ho finito vi lascio con qualche raccomandazione e qualche consiglio le raccomandazioni allora questo ragazzi è un bellissimo quadro di Antonello da Messina non so se prima del covid qualcuno di voi è riuscito ad andarci alla mostra al Palazzo Reale è stato bellissimo è il San Gerolamo nello studiolo ecco e lo uso come metafora nel senso che la prima raccomandazione è no all'atteggiamento da San Gerolamo cosa vuol dire vuol dire voi state facendo degli studi ad alta intensità culturale quindi la tentazione di chiudersi in un alveo di studio di ricerca è plausibile e assolutamente legittima tuttavia il mondo del lavoro vi chiede di uscire dallo studiolo e di fare di maturare esperienza quindi il primo grande raccomandazione che vi faccio è quella di sporcarvi le mani cimentarvi che non vuol dire necessariamente trovare un lavoro ma proprio cimentare le vostre esperienze il vostro bagaglio esperienziale ve lo dico perché poi da selezionatore un profilo che è un curriculum privo di qualunque tipo di attività collaterale allo studio non è sempre ben visto ragazzi in alcuni casi genera quasi uno stigma implicitamente perché ci si aspetta che un giovane in quei cinque anni di studio si sia dato da fare che ripeto non vuol dire lavoro e basta trovare un lavoro no vuol dire proprio aver maturato esperienza a livello bistico esperienziale di vita di socialità di volontariato qualunque cosa che possa oltre al sapere disciplinare integrare la vostra narrazione di vita altra cosa se sentite che siete deboli lavorate in questi ultimi anni di transizione al mondo del lavoro su due aspetti fondamentali la prima è la lingua inglese ragazzi proprio una condizione imprescindibile sine qua non per un ingresso efficace nel mondo del lavoro un'ottima competenza linguistica reale vera estremamente importante e poi anche perfezionare le proprie competenze digitali sicuramente servono molto utili anche nei mestieri e lo diranno chi viene dopo di me anche nei mestieri umanistici tradizionali fate i tirocini ve l'ho detto e l'altra cosa candidatevi senza paura anche a tirocini apparentemente lontani non c'è problema se vedete consultando le offerte di tirocinio presso il COSP vedete che su una posizione non è richiesto un titolo di laurea e vedete che quella posizione potrebbe essere teoricamente interessante per voi fatelo non sentitevi più come dire inferiori semplicemente perché non avete la laurea in economia aziendale o non avete nessuna competenza di tipo economica o quantitativa perché ripeto su tante posizioni viene valutata la soggettività della persona più che il piano di studi che ha seguito quindi abbiate coraggio da questo punto di vista e poi un'altra raccomandazione che vi faccio perché è molto importante vi dicevo che il lavoro è fatto di socialità e il lavoro si nutre di relazioni allora dovete cominciare fin da adesso che siete molto giovani e ancora non avete terminato il percorso di studi dovete cominciare a creare una rete di relazioni che all'inizio coinciderà con quella degli amici o dei compagni di studio però deve essere coltivata perché l'aspetto come dire il capitale relazionale che una persona si costruisce negli anni diventa fondamentale e un elemento anche di crescita professionale se se la porta dietro quindi attenzione e i network le rete di relazione bisogna costruirle quando non servono bisogna cominciare adesso dove non ne avete bisogno perché devono essere appunto implementate coltivate e sviluppate con il tempo e questo è un grande consiglio al quale non si pensa ma è estremamente importante create rete di relazioni di rapporti perché vi serviranno ragazzi saranno molto molto utili in chiaro e strumentale e qualche consiglio ho finito ragazzi allora lo dicevo cominciate lavorate voi stessi sotto a leggere voi stessi sotto il profilo delle competenze e capire delle competenze trasversali diciamo che possedete ed aver chiaro quali sono le vostre attitudini qual è il vostro profilo attitudinale come decidete per esempio qual è il vostro modo di decidere se siete più avete una logica di pensiero più sistemica quindi da specialista oppure più sintetica più analitica appunto più da specialista oppure più sistemica quindi più eclettica più più orizzontale sono tante aree attitudinali come vivete le vostre per esempio le vostre emozioni come gestite i vostri flussi emozionali sono tantissime perché perché imparare progressivamente a conoscersi bene da questo punto di vista aiuta prima di tutto a diciamo proporsi in modo consapevole al mondo del lavoro e a stare lontani anche da mestieri che sono chiaramente in dissonanza attitudinale rispetto al vostro profilo perché si potrebbero fare naturalmente esattamente come avete preso buoni voti anche in materie che non vi piacevano ma con grande fatica questa è la differenza tra lavorare con attitudine o senza attitudine non è un tema di competenze disciplinare è una cosa diversa quindi proporvi in modo consapevole al mondo del lavoro sapere cosa sono bravo a fare cosa mi riesce meglio quali capacità e competenze posso offrire alla persona che in qualche modo mi valuta sono tutti elementi di grande autoconsapevolezza e voi in ragione dei vostri studi dal mio punto di vista avete in potenza le capacità proprio come dire di autoanalisi di riflessione anche metodologica per fare un lavoro di questo genere di conoscenza di se stessi avere un'idea chiara dei propri punti di forza che è sempre un'altra declinazione di questo concetto sapere su cosa siete più forti perché lì dovrebbe in qualche modo guidare il vostro progetto e poi l'altra cosa che l'abbiamo già detta di pensare divergente questo mi piace moltissimo e sono molto contento che in questo seminario ci saranno anche degli esempi di interventi professionali di aree professionali apparentemente divergenti proprio questo pensare anche a sbocchi lavorativi non canonici non necessariamente ma guardarsi diciamo esplorare altri mondi tra l'altro quello che è importante e che a volte non ci si pensa è che siamo molto abbiamo un grande una grande fortuna ragazzi di vivere a Milano che prima di tutto di stare in Statale che è un'università così grande generalista e ricchissima di opportunità anche per informarsi guardate per esempio anche altri dipartimenti ragazzi perché è una università vivacissima dove fanno tantissimi incontri di avvicinamento al mondo del lavoro e alcuni quindi approfittate diciamo con curiosità intellettuale anche delle attività che Unimi offre anche per altri dipartimenti e per altri corsi di lavoro perché possono essere interessanti anche per voi e poi siamo in un ecosistema fortissimo di istituzioni culturali sono tantissime le sollecitazioni che possono venire se avete la giusta curiosità intellettuale e avete la giusta proattività vi possono venire per cominciare quantomeno ad abbozzare un profilo professionale a partire dal COSP dal mio collega che parlerà dopo di me e che vi racconterà appunto questa struttura che aiuta proprio gli studenti proprio nella transizione verso il mondo del lavoro basta solamente vi lascio con questa metafora che non bisogna sicuramente drammatizzare l'ingresso al mondo del lavoro avete visto che questa situazione oggettiva ha fortemente in qualche modo anche per noi adulti come dire inficiato la nostra visione di futuro per cui a maggior ragione anche per voi è un lavoro oggettivamente complicato in questo momento e quindi a maggior ragione non è il caso di drammatizzare è molto probabile che le prime posizioni di lavoro dove andrete non saranno pienamente attitudinali però mi piace e quindi però fatele ugualmente esattamente come un tirocinio che non va a buon fine è comunque utile perché vi aiuta dal punto di vista orientativo sono tutte esperienze che si maturano la metafora sonora della prova d'orchestra non so se avete visto un'orchestra sinfonica quando si sta accordando con il primo violino che dà il là ecco questo è un po' il primo momento della transizione al mondo del lavoro è una fase di progressiva di progressiva consonanza con voi stessi e con le vostre attitudini che dovrete raggiungere poi progressivamente partendo dal presupposto come vi dicevo che la strada sicuramente è in salita non pochi saranno i problemi e c'è da lavorare il progetto ragazzi è un lavoro bisogna lavorarci con impegno e con metodo per costruirlo però chi ci riesce poi dopo ha più chance comunque di trovare delle cose veramente che possano che possano in qualche modo soddisfarlo dal punto di vista poi della realizzazione professionale grazie a tutti grazie a lei è veramente una presentazione molto ampia molto articolata e anche molto sfumata dei vari elementi che entrano in gioco sia dal punto di vista dell'offerta che da quello della domanda quindi la ringrazio la ringrazio veramente molto per tutti questi elementi di riflessione che ci ha proposto mi scusi per Assolombardia in effetti ci ho pensato dopo Assolombarda esattamente aveva ragione e proporrei visto che appunto il tempo non è infinito che abbiamo e quindi magari anche per gli altri interventi chiederei forse un attimo di concisione in più per lasciare un po' di spazio alle domande proporrei però magari di lasciare la parola subito a Aurelio Schiavone per la presentazione anche del COSP e nel frattempo se avete parlo per gli studenti se avete domande da formulare rispetto a quello che avete appena sentito alle slide che avete visto e anche quello che sentirete di Aurelio Schiavone formularvi man mano sulla chat e poi al termine dell'intervento del dottor Schiavone faremo un mini momento di dialogo in maniera tale da accumulare qualche questione a proporre entrambi e cercare di rispondere al meglio lascio quindi la parola a Aurelio anche lui per una breve presentazione dei servizi che sono stati evocati a più riprese da Roberto Binghi quindi è bene ecco che li illustriamo anche concretamente esatto esatto buongiorno a tutti innanzitutto grazie a professor Frigo per averci dato appunto l'opportunità di illustrare i nostri servizi e anche al dottor grazie anche al dottor Ming appunto per il lancio che ha fatto nella presentazione precedente allora io adesso chiedo di pazientare qualche secondo il tempo di caricare appunto la presentazione io sarò veramente veloce nel senso che l'obiettivo di questo di questo incontro appunto io prenderò giusto cinque minuti per descrivere quelli che sono i servizi e i servizi del COSP e più nello specifico dell'ufficio placement innanzitutto mi presento allora io mi chiamo Aurelio Schiavone dell'ufficio placement appunto del COSP che è il centro per l'orientamento allo studio e alle professioni in questa giornata appunto in questa mattinata sostituisco il collega Emiliano Santini che appunto a causa di problemi personali non ha potuto partecipare e quindi questo è il motivo per cui vedete comunque indicazioni diverse rispetto al nome del relatore di questo brevissimo intervento quindi l'obiettivo appunto del nostro servizio e del nostro ufficio è quello di supportare gli studenti e i laureati nella transizione appunto dall'università al mondo del lavoro per fare questo noi abbiamo suddiviso i servizi che proponiamo a livello di ufficio quindi ufficio placement in due macro categorie la prima categoria è quella degli incontri di orientamento al lavoro e con le aziende mi fermo facendo una premessa generale tutti i servizi che vi vado a illustrare in questi pochi minuti appunto sono comunque descritti anche all'interno del sito internet quindi a partire dal home page del sito unimi.it potete trovare comunque maggiori e più dettagliate informazioni dicevo quindi la prima categoria di servizi che noi proponiamo è quella degli incontri di orientamento al lavoro e con le aziende si tratta quindi di incontri seminari o laboratori di orientamento al lavoro che strutturiamo sulla base di specifici target e che sviluppiamo in collaborazione con anche aziende o professionisti esterni chiaramente all'università tendenzialmente queste attività sono sempre state sviluppate in presenza per ovvi motivi recentemente li stiamo sviluppando li stiamo portando avanti tramite teams quindi in modalità virtuale per dare qualche esempio i laboratori che si strutturano tendenzialmente su quattro incontri diversi che noi appunto costruiamo in maniera specifica sul target di riferimento si analizzano diverse tematiche importanti come ad esempio quella della candidatura quindi come strutturare un curriculum efficace come affrontare nel migliore dei modi il colloquio ad esempio colloquio individuale e poi con l'aiuto anche faccio riferimento in uno specifico alle tematiche che si affrontano che stiamo affrontando durante gli ultimi laboratori dicevo in collaborazione con professionalità esterne affrontiamo ad esempio il tema del personal branding quindi della marca individuale i valori aziendali quelle che sono le competenze richieste dalle aziende le modalità di valutazione di valutazioni contemporanee e poi anche per dare un respiro più ampio diciamo quella che è l'offerta appunto dei laboratori affrontiamo anche quelle che è la ricerca del lavoro virtuale e internazionale nel contesto attuale quindi sono attività che prevedono la partecipazione contemporanea di più utenti chiaramente poi nell'ultima slide vi faccio vedere anche come accedere direttamente a questi servizi quindi questi sono servizi che prevedono la partecipazione di più utenti in contemporanea il secondo servizio che fa riferimento appunto a questo primo macroambito è quello dello sportello lavoro lo sportello lavoro invece è un'attività sostanzialmente individuale quindi è possibile chiaramente in maniera in modalità gratuita tutti i servizi sono gratuiti è possibile richiedere un colloquio individuale con un operatore del COSP o con un consulente esterno che permette appunto di affrontare in modo individuale quelle che sono le tematiche di interesse dello studente si parte tendenzialmente quasi sempre appunto dall'analisi del proprio CV nel senso che dal CV e dal curriculum così come è stato strutturato in una prima fase dallo studente emergono quelle che sono i punti di forza e i punti di debolezza e quella che è la discrepanza magari tra quelli che sono dei dati che sono oggettivi dal punto di vista di un esterno rispetto a quella che è la percezione ad esempio dello studente quindi si parte molto spesso dall'analisi del proprio CV dando poi dei consigli specifici appunto essendo un incontro individuale e poi si affronta anche la modalità di ricerca del lavoro quindi a livello di singolo l'altra attività che svolgiamo è quella della job fair di Ateneo e degli incontri con le aziende la job fair di Ateneo è sicuramente l'evento diciamo principale per quanto riguarda il nostro ufficio ufficio placement è un incontro che nell'ultima edizione che si è svolta online sempre per ovvi motivi si è svolta appunto dal 23 al 27 novembre è un momento di incontro con le aziende nell'ultima edizione hanno partecipato 91 aziende il sito comunque della job fair è ancora online quindi per permettere di visionare tutte le informazioni che sono state prodotte molte slide ad esempio degli incontri dell'ultima job fair sono pubbliche sono pubblicate e verranno anche resi pubblici alcuni video dei webinar ad esempio che sono stati prodotti durante l'evento oltre a questo poi abbiamo anche la fase di promozione di corsi eventi esterni e incontri la promozione di queste iniziative che appunto il nostro ufficio seleziona e reputa interessanti per i nostri studenti chiaramente avviene attraverso due canali sostanzialmente il primo è il sito internet all'interno del sito c'è una sezione con gli eventi appunto messi in evidenza e poi anche attraverso l'invio di mailing list a specifici target di utenti questi servizi chiaramente sono destinati a studenti e laureati soprattutto neolaureati per neolaureati si intende gli studenti che hanno conseguito il titolo da non più di 12 mesi la seconda parte il secondo ambito diciamo di azione del nostro ufficio è quello dell'incontro tra domande e offerte di lavoro e stage in questo senso mi ricollego anche a quello che aveva appunto accennato il dottor Minghi nell'intervento precedente il nostro ufficio gestisce la possibilità appunto che tutti gli studenti hanno di avere un proprio cv online quindi attraverso la banca la bacheca degli annunci quindi la bacheca Alma Laura che è strutturata all'interno del nostro sito internet è accessibile con le vostre credenziali di Ateneo tutti gli studenti possono gestire appunto il proprio curriculum online e visualizzare sento un po' di rumori sottofondo quindi probabilmente qualcuno ha il microfono aperto dicevo gli studenti hanno la possibilità di visualizzare annunci di lavoro annunci di tirocini curriculari ed extracurriculari che vengono messi a disposizione dei nostri utenti il nostro ufficio riceve quotidianamente moltissime offerte quindi stiamo parlando sia di offerte di opportunità lavorative sia di tirocini curriculari cioè tirocini che possono essere avviati da studenti sia per tirocini extracurriculari cioè tirocini che possono essere avviati da studenti che nel nostro caso hanno conseguito il titolo appunto da non più di 12 mesi quindi è importante monitorare la bacheca online questo perché prima di tutto perché come dicevo prima appunto è costantemente aggiornata e poi perché permette di dare di avere un'idea concreta rispetto a quelle che sono le opportunità vere reali richieste dalle aziende la bacheca appunto è molto è molto ricca e il suggerimento quindi è quello di tenerla sempre sempre monitorata chiaramente per poter gestire poi gli aspetti concreti di attivazione ad esempio dei tirocini noi ci avvaliamo della competenza dell'ufficio stage esiste quindi il servizio stage che viene appunto gestito direttamente da un ufficio specifico l'ufficio stage sempre all'interno del COSP che si occupa di tutti gli aspetti pratici relativi appunto all'attivazione dei tirocini come attivare quindi come accedere a queste tipologie di servizi e mi avvio verso la conclusione di questo brevissimo intervento tutti i servizi ad esempio per quanto riguarda la bacheca il servizio stage e il CV sono online e sono integrate all'interno della piattaforma Alma Laurea e sono accessibili dalla pagina Unimia quindi la pagina a disposizione di ogni studente quindi con un unico accesso è possibile accedere a questo servizio è importante ricordare che è necessario utilizzare login e password quindi le credenzie di accesso della casella di posta elettronica di Ateneo quindi tutto ruota attorno a queste credenziali chiaramente al primo accesso bisogna dare il proprio consenso alla creazione del CV è possibile attraverso la piattaforma Alma Laurea aggiornare chiaramente il proprio il proprio CV consultare le opportunità e poi usufruire anche dell'assistenza diretta del servizio stage quindi dell'ufficio che si occupa dell'attivazione dei tirocini nello specifico per quanto riguarda invece gli altri eventi a cui facevo riferimento prima ad esempio gli incontri di orientamento al lavoro seminari o incontri è necessario iscriversi attraverso diversi canali in qualche caso abbiamo previsto l'iscrizione diretta tramite SIFA in qualche caso invece abbiamo previsto l'iscrizione attraverso la statale news oppure attraverso altri canali la cosa importante a dire che nel momento in cui attiviamo con la collaborazione di professionisti esterni o di altri settori dell'università questi laboratori questi incontri specifichiamo sempre qual è la modalità di iscrizione lo sportello lavoro invece è uno sportello e sto parlando adesso degli incontri individuali che diciamo non ha mai non si è mai bloccato in epoca covid infatti attualmente è strutturato in modalità online su Teams solitamente invece lo sportello è accessibile su prenotazione quindi modalità fisica tutti i mercoledì dalle 14 alle 16 direttamente al Cospi in Santa Sofia in questo periodo quindi dicevo gli incontri continuano a tenersi però modalità online sempre chiaramente individuale per accedere a questo servizio è sufficiente inoltrare un'email a placement.aziende chioccio un'email.it che è l'indirizzo mail del nostro ufficio si inolta quindi la richiesta si noi richiediamo poi se non subito comunque nel momento in cui diamo poi l'appuntamento di inoltrare anche la propria del CV del curriculum e si fissa insieme un appuntamento solitamente noi telefoniamo direttamente agli studenti che hanno richiesto questa tipologia di servizio e li contattiamo telefonicamente per fissare insieme un appuntamento per ultimo c'è il servizio stage il servizio stage che come dicevo prima appunto si occupa ed è un ufficio separato rispetto all'ufficio placement si occupa della gestione pratica appunto burocratica e concreta dell'attivazione dei tirocini curriculari ed extracurriculari in questo momento lo sportello informativo quindi lo sportello in presenza è sospeso è però disponibile sempre il ricevimento telefonico i giorni di attivazione e i riferimenti che vedete qui all'interno di questa slide sono anche disponibili sul sito internet nella sezione studiare stage quindi questi sono i servizi che abbiamo sviluppato e che portiamo avanti proprio per voi sostanzialmente per studenti e laureati adesso poi chiaramente ripasso la parola al professor Frigo comunque siamo sempre a disposizione a livello di ufficio sempre via mail o anche ai riferimenti telefonici che potete trovare sul sito internet e niente quindi è importante per noi avere anche un feedback da parte vostra anche perché ripeto tutti i servizi che strutturiamo hanno come destinatari voi quindi è importante che siano utili soprattutto anche in relazione al fatto che noi ci avvaliamo delle competenze di professionisti esterni quindi è importante gestire al meglio questa tipologia di servizi grazie mille mi pare molto molto chiaro e spero appunto che gli studenti che non conoscevano tutti questi servizi quando li avevano già incontrati nell'ambito dei laboratori o più in generale nella ricerca dello stage abbiano avuto come dire la curiosità quantomeno di esplorare un po' le varie offerte proposte mi pare molto molto chiaro e molto utile grazie il tempo comincia a scorrere molto velocemente non abbiamo non è infinito quindi dovremmo cominciare a contingentare un po' la gestione degli interventi vorrei comunque lasciare a Uberto se è ancora con noi la possibilità di rispondere in maniera veramente telegrafica se riesce alla domanda che ha rivolto una studentessa e che trova qui di fianco Uberto è ancora con noi? perché non la vedo non la sento non la vedo no? sì va bene casomai la recuperiamo un po' più tardi quando Uberto ci ritorna collegato una domanda appunto sulle competenze digitali e sulla natura esatta di queste competenze digitali forse però diciamo che la domanda la risposta a questa domanda in parte potrà venire dai prossimi interventi ai quali cedo subito la parola cioè ad Andrea Guerra e a Cecilia De Luca che appunto propongono un intervento congiunto Andrea mi senti? eccomi ci sono buongiorno a tutti mi attivi anche i video così ti vediamo ecco perfetto e Cecilia anche buongiorno appunto ecco un intervento diciamo congiunto non ti vedo ancora Andrea io sì ho telecamera attiva ecco adesso perfetto benissimo benissimo quindi un intervento congiunto dicevo perché ecco ve lo diranno loro fra un secondo appunto si trovano a essere a lavorare insieme in un ambito improbabile per gli studenti di filosofia ma è una nostra lavorata recentissima quindi tanto improbabili non è quindi anche anche a voi chiederei di di presentare quello che le varie idee che avete che avete raccolto e che volevate proporci e agli studenti sempre gli invito a formulare anche mano a mano che l'intervento si svolge delle domande sulla chat in maniera tale che appena appena l'intervento è concluso possiamo girarle ai contributori ti lascio la parola Andrea vi lascio la parola Andrea non so se parlate insieme o come ci alterneremo perfetto benissimo allora lascio le parole a entrambi grazie mille per essere con noi e a voi la presentazione allora cominciamo ad attivarla spero che si la presentazione non ancora adesso forse sta arrivando possibile vediamo adesso vediamo il tuo schermo quindi dovremmo esserci perfetto ok dovreste vederla perfetto benissimo allora grazie a tutti appunto vi ringraziamo dell'invito Cecilia e Dio noi siamo gli stravaganti o gli extravaganti e siamo qui appunto a raccontarvi oggi che cosa un filosofo potrebbe fare nel mondo della tecnologia la nostra diciamo presentazione sarà composta di essenzialmente tre parti una parte iniziale alcune considerazioni filosoficamente un po' azzardate su quanto la tecnologia oggi impatti la vita di ognuno e su quanto la tecnologia ponga delle questioni radicali che a giovani pensatori come voi come dire spetta il compito di dare risposte la seconda parte invece sarà una parte estremamente più pratica vi racconteremo uno che cosa facciamo esattamente in una società tecnologica come Qt Partner e due quali affinità nella nostra attività quotidiana troviamo con gli studi che voi state facendo e che siete in porcento di terminare ed infine alcune discussioni alcune opportunità e consigli che riprendono in realtà cose già dette pochi interventi fa partiamo con i problemi della tecnologia allora la tecnologia oggi e questo come dire è un luogo comune così comune che non andrebbe neanche menzionato la tecnologia oggi impatta amplifica altera distorce una serie di concetti che hanno una lunghissima tradizione filosofica concetti di verità di identità personale di formazione delle opinioni di in un certo senso anche lo stesso futuro dell'umanità quello che vedete qui che sto cercando disperatamente di far partire e magari non ci riesco è un famoso discorso di Barack Obama lo trovate su internet adesso non sta partendo quindi poco ci posso fare ma lo trovate su internet e no infatti non sta partendo ma è un discorso interessantissimo e vi invito a cercarlo ed è un discorso che trovate sotto la denominazione Barack Obama Deepfake questo è un discorso è notevole è perfetto io vi invito a guardarlo e a rendervi conto se l'interlocutore se quello che vedete veramente è Barack Obama o meno opla niente bene ciò che voi vedrete che oggi non riesco a farvi vedere ma quello che si vede è un Barack Obama che parla parla perfettamente alla sua lingua alla sua gestualità e dice delle cose estremamente interessanti ad esempio Donald Trump è un perfetto idiota ora questo video che adesso sta partendo è un video che non esiste Barack Obama non ha mai parlato non ha mai pronunciato quelle frasi e non ha mai detto quello che ha detto è un video prodotto da un'intelligenza artificiale che si chiama deep fake è in grado di riprodurre come dire dei video dei documenti che sono assolutamente indistinguibili dalla realtà e questo pone il primo dei grandi problemi se noi immaginiamo che nella nostra tradizione filosofica che la vera va bene ve lo risparmio perché sennò perdiamo ulteriore tempo ma questa intelligenza artificiale ha ricreato questo personaggio che in realtà non esiste quindi abbiamo una creazione artificiale di un oggetto che come dire ci dà una percezione della verità in un'epoca in cui noi diamo all'immagine un enorme potere Instagram Facebook e così via il fatto che alcuni filmati siano assolutamente veri è una questione abbastanza delicata come dire impatta il nostro senso della verità se la verità è aderenza alla realtà nel momento in cui la realtà viene alterata è la stessa verità ad essere attaccata il modo in cui noi ci formuliamo le opinioni oggi è dato da come dire le social media dalle piattaforme di diffusione di contenuti digitali non vorrei fare una considerazione come dire né sociologiche né filosofiche alla matriciana quindi farebbero accaponare la pelle ai più filosoficamente dotati di voi però siamo di fronte a un problema enorme a un problema relativamente alla formazione del consenso se qualcuno ha avuto occasione di seguire le elezioni americane del 2016 e del 2020 beh ha sentito dei dibattiti enormi relativi al ruolo dei social media anche qui su internet trovate un documento molto interessante ed è la deposizione al senato alla commissione del commercio del senato il 28 di ottobre di due signori qua sotto uno è il famosessimo celeberimo Mark Zuckerberg fondatore di Facebook e l'altro è Jack Tersey che è l'analogo di Twitter beh come sapete nelle elezioni americane in queste ultime elezioni americane sono state contraddistinte per la prima volta da una questione dei social media cosa voglio dire beh da una parte Twitter a un certo punto pochi giorni prima delle elezioni ha cominciato a bloccare la diffusione di informazioni relative al figlio di Biden Joe Biden il quale veniva accusato di aver avuto degli intrallazzi con paesi esteri con l'Ucraina e Twitter ha ritenuto che queste cose fossero come dire delle panzane enormi probabilmente lo erano e che avrebbero alterato la percezione di alcuni elettori della parte avversa ai repubblicani la stessa identica cosa o qualcosa di molto simile ha fatto Mark Zuckerberg ok pochi giorni dopo il risultato elettorale si erano formati dei gruppi spontanei con una crescita molto rapida molto preoccupante che reclamavano il fatto che le frange più estreme del partito repubblicano avrebbero dovuto unirsi e avrebbero dovuto insorgere contro quello che veniva percepita a torto ragione un'elezione rubata alterata beh in entrambi i casi abbiamo una situazione paradossale anche qui abbiamo una società private con centinaia di milioni di utenti società su cui noi ci formiamo delle opinioni costruiamo un'identità politica agiamo politicamente nel mondo che sono detenute essenzialmente da pochissimi individui questi che sono gestite da tecnologi e che prendono delle posizioni ed è qui scritto delle policies in place abbiamo delle regole interne per decidere cosa può essere detto o cosa non può essere detto beh questa filosoficamente è una cosa che anche qui dovrebbe far versare il sopracciglio è un tema antico è il tema della censura è il tema delle società aperte è il problema della tolleranza verso gli intolleranti anche qui questa discussione avviene fra tecnologi i due signori lo sono ed è anche qui una posizione filosofica da parte vostra che siete cittadini del mondo è assolutamente vitale noi siamo immersi nel digitale ma siamo anche produttori di digitale Otega Gasset cento anni fa avrebbe detto io sono io le mie circostanze oggi dovremmo cambiarla questa versione io sono io le mie circostanze e i miei gigabyte noi lasciamo tracce produciamo informazione costantemente nel cyberspazio e questa informazione viene letta memorizzata interpretata e alla fine predetta dalle macchine dalle macchine che ci osservano che rendono come dire la nostra vita molto più facile ogni volta che noi andiamo su una piattaforma Amazon ci propone le scarpe da tennis che avevamo visto e immagina che ci interesserà anche magari una maglietta da tennis e così via il nostro mondo è composto dalle informazioni che noi disperdiamo ma non sono informazioni che si disperdono nel vuoto sono informazioni che le macchine osservano e usano per dire cosa noi facciamo in un certo senso mi viene sempre in mente la frase di Madman quella serie televisiva degli anni 50 degli anni 50 sulla pubblicità in cui Don Draper a un certo punto dice abbiamo inventato la felicità per vendere delle calze di nylon ecco qui siamo in qualcosa di molto analogo abbiamo il digitale per poterci rendere tutti noi uomini dei prodotti da vendere e da essere come dire e da acquistare ed infine il fatto delle intelligenze artificiali rende estremamente problematica anche in un certo senso il futuro della nostra umanità il problema della coscienza se qualcuno ha fatto filosofia della mente mi avrò in parecchi avranno sicuramente dibattuto questi temi ci sono filosofi John Searles che sono assolutamente Chalmers sono da contraria hanno bisogno riduzionistica della coscienza dell'essere umano altri come Tennet sono più possibilisti se lo chiedete a me che sono un tecnologo un ingegnere elettronico beh io sono un po' sono un materialista che sta spinto e penso che forse un giorno quello che i tecnologi chiamano la singolarità cioè la nascita della coscienza su un circuito del silicio si è affattibile alcuni di noi pongono questa frontiera intorno all'anno 2040 2050 in ogni caso che avvenga o no è un tema estremamente fondamentale qui trovate una famosa barzelletta di Stephen Hawking l'astrofisio che è morto qualche anno fa che riteneva la nascita dell'intelligenza artificiale delle coscienze artificiali il più grande pericolo per la sopravvivenza dell'umanità anche qui non ho assolutamente né una posizione né una risposta quello che dico è che questa brevissima carrellata di interrogativi ha in voi una speranza di essere risposto di trovare risposte voi siete gli eredi di una tradizione filosofica occidentale di 2500 anni avete quindi degli strumenti culturali importantissimi relativamente alla verità a che cos'è la conoscenza a che cos'è la libertà a che cos'è la tecnologia che come dire vi pongono al centro del dibattito e come dire come consiglio generale di vita è che non lasciate i tecnologi ok e gli ingegneri come me giocare come prendisti stregoni su questo genere di cose ora scendiamo dall'imperio e vi racconto esattamente che cosa facciamo in Q-Partner tutti i giorni allora noi in Q-Partner in tutti i giorni ci occupiamo di questa cosa cito l'articolo 642 del codice di procedura penale cioè cito una cosa che apparentemente sembra innocua che è la tematica delle frodi alle assicurazioni ora detta così è la cosa meno sexy del pianeta cioè immaginare le frodi e le assicurazioni ma in realtà la percezione delle frodi e delle assicurazioni è una percezione in gran parte sbagliata le frodi e le assicurazioni sono un problema grandissimo sono un problema grande da un punto di vista economico sono un problema grande da un punto di vista sociale vi do soltanto alcuni numeri così avete un flavor di cosa stiamo parlando beh da un punto di vista economico noi stimiamo che le frodi alle assicurazioni sottraggono alla comunità qualcosa come probabilmente dai 2 ai 4 miliardi all'anno ora 2-4 miliardi all'anno immaginiamo 4 miliardi all'anno è una bella cifra è una manovra economica se un ospedale con centinaia di posti letto attrezzato con le cardiochirurgie con tutti gli apparecchi sofisticati i tecnologi costano in circa una miliardata di euro vuol dire che noi ogni anno avremmo dovuto costruire 4 ospedali tanto per rimanere in tema covid ma non lo facciamo in 10 anni sono 40 cioè sono numeri importanti il fatto che ci siano le frodi impatta sulla salute della nostra collettività secondo altro punto questo flusso di denaro non va in gran parte come uno potrebbe immaginare al poveretto che ha fatto un incidente e va lì dice oh c'è un mal di collo terribile vorrei un risarcimento questo no purtroppo non è più così la gran parte di questo denaro alimenta va a strutture estremamente organizzate estremamente capaci e gestite dalla criminalità organizzata essenzialmente dalla Camorra dall'Andrangheta ed ecco perché quel riferimento sinistro ha una ha una siringa e ha della droga perché questo flusso di denaro e appunto parliamo di centinaia di miliardi di euro ok finiscono ad alimentare a essere fonti efficaci di finanziamento per tutta una serie di attività illecite che in realtà sono estremamente dannose quindi la frodi di assicurazioni è un problema sociale altera alcuni meccanismi disperde energie e alimenta la criminalità organizzata come si fa a combattere la frode nell'assicurazione beh a questo punto arriviamo a noi di più partners un po' di altra gente ovviamente che utilizza sistemi informatici molto sofisticati e vi dimostrerò fa breve per andare a capire se un sinistro che è un'assicurazione è per legge tenuto a liquidare sia legittimo o meno cioè sia un vero sinistro o sia un fake un po' come il video di prima beh per far questo quello che noi facciamo ogni giorno nei nostri computer è ricevere dalle compagnie di assicurazione i dati quindi dati che descrivono dati informatici che descrivono l'incidente nelle sue dinamiche dove è avvenuto chi è stato coinvolto questi dati vengono trasmessi ai nostri computer di notte i nostri computer li immagazzinano e se vedete quella figura a modo di frullatore in centro elaborano tutti questi dati producono in un certo senso dei verdetti dei giudizi e questi due giudizi vengono pubblicati su un siti web su una piattaforma apposta dove le assicurazioni possono decidere cosa fare decidono se non pagare in sinistro oppure procedere a una normale liquidazione il nostro è una macchina che fa supporto alle decisioni supporto alla decisione vuol dire che la macchina la piattaforma tecnologica adotta algoritmi molto sofisticati davvero c'è molto dietro per decidere se un sinistro è giusto o sbagliato e qui ce ne sono alcuni alcuni esempi di che cosa intendiamo per fare un discorso un po' più pratico se no non si capisce poco di che cos'è una piattaforma informatica io ve l'ho mostrata ecco questo è quello che un operatore antifrode vede quando il sinistro è pericoloso quello che vedete qui è un sinistro molto pericoloso la macchina propone tutta una serie di evidenze basate poi su regole evidenze che sono da un punto che hanno vari aspetti in questo caso che guardando delle evidenze geografiche c'è qualcosa nel sinistro nella sua configurazione geografica che non ci piace qui in questo caso abbiamo il calcolo di alcuni aspetti socio-economici il sinistro avviene in zone che sono ad altissima densità di fraudolenza quindi c'è un tema di vicinanza di prossimità a persone che sono inclini a fare fraudi e così via abbiamo un'analisi questo lo vedete sofisticata di come il sinistro si collega a tutte le altre informazioni quello che proprio vedete qui anche se non sembra con questa stella centrale che si vede è la fotografia di un crimine questo è un crimine organizzato in cui ci sono decine di persone che collaborano insieme per commettere un crimine ed infine l'ultima posizione le macchine le intelligenze artificiali che scrutano i dati nel capire che cosa sta avvenendo bene se vi ho dato un flavor generale di che cos'è una piattaforma e di cosa ci occupiamo allora vi racconto diciamo come lo facciamo quali sono le affidità elettive e cosa vuol dire costruire una piattaforma informatica beh in realtà vuol dire far tanto e vuol dire essenzialmente percorrere questo giro dell'oca che qui vedete rappresentato nel nostro caso per costruire il detector questo giro dell'oca l'abbiamo percorso in circa 6.000 giorni uomo che cosa voglio dire vuol dire che se uno oggi si mettesse adesso in questo momento a ricostruire il detector cioè quella piattaforma che vi ho mostrato prima beh inizierebbe adesso e finirebbe grossomoso il 13 maggio del 2037 probabilmente nel tardo pomeriggio e cosa farebbe in tutto questo tempo in questi 17 anni di duro lavoro beh farebbe proprio questo percorrerebbe questo giro questa strana pista facendo questa attività ve le descrivo velocemente e poi cerchiamo le analogie filosofiche la prima è ovvio dobbiamo generare delle idee se cerco delle frodi devo capire come le frodi avvengono devo avere un'idea di come le frodi avvengono e già qui c'è il primo come dire dei punti di contatto con ciò che è stato detto prima studi di questo tipo capire che cosa accade in una frode vuol dire mettere insieme in maniera multidisciplinare persone diverse chi di frodi se ne intende a volte chi di frodi le commette il tecnologo che è capace di scrivere gli algoritmi l'architetto informatico che si occuperà dei computer che dovranno farle ma anche lo psicologo ma anche chi è esperto di comunicazione e chi è esperto di comportamenti umani è un dibattito interdisciplinare estremamente fecondo una volta che delle idee sono state cioè si fa un'opinione di che cosa potrebbe avvenire beh dobbiamo costruire delle ipotesi qualcosa di un po' più solido e queste ipotesi devono avere un loro formalismo una volta che le abbiamo ottenute cercheremo di validarle tradurremo queste ipotesi in un formalismo matematico e andremo a cercare ok veri delle riscontri in quello che immaginiamo fatto questo ultimo punto il tutto è in discesa dovremo disegnare il sistema informativo che per noi ingegneri vuol dire progettare immaginateci con la carta penna regolo dove disegneremo come funziona dovremmo fare quell'attività fondamentale che è il coding vuol dire scrivere il codice scrivere i programmi noi diciamo italiani programmatori è una tale lavoro importante e nobile e infine dovremmo una volta che la macchina è costruita testare se fa esattamente quello che funziona a questo punto nell'ultimo punto dopo il testing è un po' come a Cape Carameral quando tutti danno una luce verde siamo pronti dovremo portare il nostro sistema in produzione cioè vuol dire cominciare a ricevere i dati dalle compagnie cominciare a elaborarle e cominciare a restituire i risultati e infine attività altrimenti importante il monitoraggio dobbiamo come dire essiamo i padroni della della vaporiera e dobbiamo tenere sotto controllo che la macchina e la macchina del vapore continui a funzionare monitorare le nostre ma le nostre macchine e da ultimo importante importantissimo è un lavoro di astrazione un po' un passo indietro per andare a capire se le macchine i risultati che otteniamo sono esattamente quelli che ci aspette aspettiamo e se ci sono delle discrepanze dobbiamo agire e dobbiamo capire se abbiamo nuove idee e se ce l'abbiamo il giro ritorna all'inizio allo step one e così via e alla fin fine negli anni a modi spirale costruiamo il nostro spiraleggiamo verso la soluzione e costruiamo il nostro sistema informativo ora tutta questa attività ma che c'entra con la filosofia? allora qui mi sono preso qualche libertà quindi seguitemi con 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 uno spirito di tolleranza beh nella fase della generazione delle idee troviamo per me o per noi che facciamo questo lavoro due filosofi cardine quindi troviamo il severo sguardo di Wittgenstein e Platone e ora tornerò nella parte di design e coding della costruzione delle cose la razionalità delle cose invece a me viene in mente sempre Spinoza il suo sguardo razionale sul mondo e ne parleremo e infine da ultimo il pezzo come dire più importante l'analisi dei dati che è il tema come dire principe di quello che noi facciamo e qui ci troviamo la Cecilia io parlerò dei primi tre blocchi e poi passo la parola a Cecilia che nel dettaglio vi racconterà che cosa fa un data analyst torniamo alla slide appunto della generazione delle idee allora la generazione delle idee è un'attività profondamente erotica è probabilmente un'attività erotica che possiamo fare senza coinvolgere i nostri organi genitali ed è un'attività profonda non mi può non venire in mente il simposio di Platone e non può quando parliamo di generazione delle idee non non possiamo non ricorrere a Platone Platone ci insegna la tecnologia del dialogo come si fa a parlare con la persona come si fa a costruire una verità più grande di quella dei singoli e qui lo troviamo proprio nel come dire ha espresso all'ennesima potenza ovviamente il simposio non parla di sistemi informativi parla di amore parla di regami erotici e parla di regami erotici che sono generativi beh bene quando noi dobbiamo trovarci intorno al tavolo tutti persone diverse con competenze diverse con storie diverse e dobbiamo generare un'idea è esattamente quello che facciamo dobbiamo metterci in collegamento con qualcun altro in un legame generativo dobbiamo essere in grado di mettere a fattore comune le nostre competenze con quelle degli altri dobbiamo imparare ad ascoltare a farci ascoltare a capire le sottigliezze ad esprimerci correttamente siamo in tutta in questa attività sofisticata ed estremamente eccitante che è appunto il creare qualcosa di nuovo Platone inoltre nel dialogo fra le tantissime cose che dice e quindi non so neanche come dire a 20 anni parla a un certo punto di desiderio e il desiderio che cosa? è la mancanza la mancanza di qualcosa e ancora qui quando noi creiamo qualcosa cioè generiamo qualcosa generiamo attraverso desiderio cioè attraverso mancanze mi spiego io ho delle competenze tecnologiche ho qualcosa ma qualcun altro ha qualcos'altro per esempio uno psicologo o per esempio chi conosce bene le dinamiche delle frodi creare quindi vuol dire desiderare qualcosa che non ho per creare devo desiderare qualcosa che non ho devo mettere a fattor comune competenze diverse e allora in sintesi mettere a fattor comune competenze diverse cioè mancanze in una relazione potente e generativa ed eccitante come quello di creare qualcosa nuovo è esattamente una relazione erotica e quindi insomma mi è un invito al fatto a non vedere il nostro lavoro di computer e numeri come qualcosa di freddo è esattamente l'opposto beh non potevano mettere Wittgenstein in questa brevissima carrellata un po' perché siamo colleghi era un ingegnere era un ingegnere aeronautico ma ancora stiamo parlando del dialogo della come dire attività principe di quello che noi in realtà tecnologi facciamo e quando parliamo di dialogo la funzione del linguaggio delle sue ambiguità della difficoltà di creare come dire senso dalle nostre parole dovuta proprio alla natura stessa mi viene sempre in mente è stupefacente quando noi facciamo delle riunioni quanto può essere complicato capirci e noi spendiamo moltissimo tempo nella chiarificazione di quello che stiamo dicendo quindi Wittgenstein è assolutamente un must have quando uno va in una riunione e infine da ultimo come dire Spinoza quando uno immagina i sistemi informativi dico beh ma scusa noi non costruiamo niente di molto diverso da quello che ha fatto Spinoza nell'etica qui vedete sulla vostra sinistra una rappresentazione pittorica dell'etica sono i vari scoli definizioni dimostrazioni tutte interconnesse una con l'altra è un'architettura informativa cioè di pezzi di informazione che crea una conoscenza sofisticata beh alla vostra sinistra trovate esattamente la cosa che noi facciamo cioè questo è una porzione del nostro database dove vengono messe insieme le informazioni e non vi sfuggirà che sostanzialmente e analogamente sono molto molto simili ogni pezzo di informazione è connessa con un altro secondo una logica molto ben precisa quindi chi sa leggere come dire chi sa affrontare l'etica di Spinoza non ha nessunissimo problema ad affrontare a scrivere un sistema informativo e a rappresentare l'informazione all'interno ora l'ultimo pezzettino è quello di di Cecilia che a cui cedo la parola sì buongiorno a tutti mi sentite si sente sembra di sì 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 perfettamente buongiorno a tutti sono per appunto Cecilia e sono stata una vostra collega fino a qualche mese fa mi sono laureata infatti in scienze filosofiche a marzo e adesso sono circa otto mesi che lavoro con Andrea in Cube Partners in questi minuti che mi sono concessi vorrei cercare di illustrarvi perché ritengo che la figura del Data Analyst sia una figura professionale che possa interessare coloro che hanno studiato filosofia in particolare vorrei dimostrare in qualche modo come fare il Data Analyst implichi trattare di problemi filosofici molto rilevanti anche se da una prospettiva leggermente diversa rispetto a quella a cui siamo abituati in università prima di tutto quindi chiariamo chi è questa figura mitologica il Data Analyst che oggi si sente parlare un po' dappertutto più che chi è dobbiamo dire che cosa fa le principali mansioni del Data Analyst sono quelle che vedete nella slide ovvero raccoglie i dati li elabora e interpreta i risultati e li comunica la domanda che dobbiamo farci quindi ok ma cosa c'entra questo con la filosofia ad un primo sguardo potrebbero sembrare delle mansioni molto tecniche per fare questo per capire questo legame dobbiamo fare un passo indietro e chiederci quale sia lo scopo finale del Data Analyst e ad un livello veramente astratto si potrebbe dire che lo scopo finale sia quello di prendere i dati e trasformarli in informazioni informazioni che poi verranno passate a coloro che prendono le decisioni quindi il punto cruciale di questo lavoro è quello di generare informazioni affidabili e lo sfondo epistemologico in cui il Data Analyst si imbatte è il solito problema dell'induzione delle inferenze non deduttive proprio per questo ritengo che il Data Analyst debba avere una certa propensione al pensiero filosofico in particolare infatti è chiamato a identificare dei criteri di ragionevolezza che devono essere soddisfatti dalle varie fasi del suo lavoro e dall'altra deve assicurarsi che questi criteri vengano soddisfatti quello che vorrei mostrare quindi sono dei criteri molto generali e vedere che sfide quali sono le sfide filosofiche che questa figura professionale deve affrontare visto che parlerò a un livello molto astratto vi invito a pensare come le questioni che tratterò siano istanziate in problemi concreti come ad esempio quello delle frodi o insomma fenomeni di cui avete un po' di nozioni alle quali siete insomma un po' familiari la prima fase è quella della raccolta dei dati come abbiamo detto questa fase è ovviamente cruciale perché solamente se abbiamo dei dati un insieme di dati che tenga conto di tutte le variabili rilevanti del fenomeno sia esaustivo e sia priva di bias umano che potremmo avere una presa reale sul fenomeno che stiamo analizzando la sfida filosofica in cui incorre il data analyst in questa fase è il fatto che non esistano raw data o come avrebbe detto Popper oppure osservazioni questo perché è impossibile avere un insieme di dati che catturi che descriva la totalità del fenomeno ma avremmo sempre a che fare con un sottoinsieme di questo e proprio per questo in ogni sottoinsieme di dati è implicita una concettualizzazione una prospettiva che filtra il fenomeno reale cosa sto dicendo supponiamo che io debba raccogliere dei dati rispetto al computer che ho davanti ovviamente questo lo posso fare da diversi punti di vista potrei descrivere la sua apparenza la sua funzionalità le sue componenti o potrei addirittura dire le prime cose che mi capitano per la mente ovviamente in qualsiasi modo io faccio questa raccolta sto utilizzando un criterio che andrà a definire la prospettiva che i dati danno sul fenomeno quindi il data analyst in questa fase deve farsi una domanda cruciale e spero capiate non sia particolarmente banale se i dati che ha che ha raccolto che gli sono pervenuti insomma diano sul fenomeno una prospettiva adatta per rispondere alla domanda che si è fatto per il quale sta lavorando la seconda fase è invece quella della elaborazione dei dati in questa fase possiamo andare avanti con la slide grazie appunto la seconda fase è quella dell'elaborazione dei dati questa è la fase più tecnica e nonostante nonostante ciò in realtà c'è un problema ritengo abbastanza filosofico ovvero la scelta del giusto algoritmo la scelta delle funzioni che andremo che si andranno ad applicare all'insieme dei dati di interesse chiacchierando con un po' di amici che studiano ingegneria informatica ho captato cioè mi sembra di aver captato magari sbaglio che non ci siano delle vere linee guida per la scelta di questi algoritmi ma che si vada un po' a naso si utilizzano gli algoritmi che magari ci sono più familiari o peggio ancora si utilizzano un tot di algoritmi e poi si interranno soltanto quelli che hanno prodotto dei risultati coerenti con le nostre opinioni e ovviamente questo è un problema perché in questo modo introdurremmo dei bias il punto cruciale è che deve essere il fenomeno a dettare la scelta dell'algoritmo e non viceversa e anche qui non è un compito tecnico bisogna comprendere esattamente il fenomeno e dall'altra parte capire l'implicazione dell'applicazione di certi algoritmi l'ultima parte l'ultima fase del lavoro del data analyst è l'interpretazione dei risultati e la comunicazione di questi e qui il data analyst deve assicurarsi che vi sia della significatività per il reale significatività che declinerei in due modi da una parte il data analyst deve assicurarsi che il fenomeno che i risultati che ha ottenuto ha ottenuto abbiano una presa reale sul fenomeno e che non siano l'esempio delle correlazioni spure cosa sono le correlazioni spure una correlazione è una relazione statistica tra due variabili cioè che associa la modifica di un valore e la modifica dell'altro un esempio banale per far capire meglio il concetto è prendiamo peso e altezza e la variazione se vado a considerare delle altezze maggiori queste saranno associate a dei pesi maggiori cioè ad assorbare qui che questa è una correlazione che va a cogliere qualcosa di reale perché dietro c'è lo stesso referente la statura umana e quindi si può intuire perché questa correlazione sia una relazione reale invece le correlazioni spurie sono quelle relazioni che sono casuali come in questo grafico potete vedere una correlazione positiva tra i divorzi il numero di divorzi nel main e la quantità di margarina consumata ovviamente se io fossi un produttore di margarina sarebbe assurdo se io andassi a contare quanti divorzi ci sono stati nel main per decidere quanta margarina produrre quindi questa è una relazione spuria qualcosa che cattura un fenomeno puramente casuale quindi data analysis deve assicurarsi che questo non avvenga dall'altra parte deve comunicare i risultati che ha ottenuto le informazioni che ha ottenuto a persone che magari hanno un background differente e non sono non hanno le sue stesse capacità tecniche e matematiche quindi deve avere delle buone capacità di comunicazione e ritengo anche che sia importante che conoscano o abbiano una conoscenza quantomeno di base dei bias cognitivi infatti il modo in cui andrà a compilare il report o insomma presenterà le informazioni che ha generato può influenzare il modo in cui gli interlocutori ricevono queste informazioni cosa sto dicendo a seconda di cosa presento prima e cosa dopo i colori che utilizzo nei grafici insomma tutte queste cose sono il data analyst deve stare attento a molti aspetti e proprio per questo ritengo sia una professione estremamente poliedrica con mille sfaccettature e noi che abbiamo studiato filosofia potremmo essere sia interessati sia potremmo fare molto bene detto questo è evidente che ci sia un gap tecnico cioè noi non abbiamo la maggior parte di noi quantomeno io compresa non avevo alcuna preparazione non sapevo programmare sapevo ma la pena accendere un computer quindi a chi di voi è interessato a simentarsi è interessato a questo tipo di opportunità gli consiglio di iniziare il più presto possibile a programmare perché è faticoso cioè occorre tempo è faticoso insomma come ogni cosa è nuova d'altronde posso assicurarvi però che questa fatica sarà poi ripagata dalla possibilità di entrare in un mondo effervescente come ha mostrato Andrea contemporaneo ma soprattutto cosa che ritengo più importante le conoscenze che si acquistano in questo ambito permettono di comprendere meglio il mondo odierno e le sue dinamiche e questo è tutto passerei di nuovo la parola ad Andrea per le ultime considerazioni ok perfetto siamo ormai in chiusura una considerazione che è stata fatta assolutamente in maniera magistrale prima cioè il tema dell'opportunità il settore tecnologico oggi ha una carenza di personale che è drammatica allora qui ho citato una stima di Confindustria che parla di una mancanza di 300.000 figure professionali cioè l'Italia non sarà in grado di mettere a disposizione delle industrie come la nostra personale e altre stime sono ancora più gravi che dice 400.000 500.000 bene fatevelo dire da chi ha da questa parte della barricata il nostro più grande problema non è affatto trovare clienti o costruire il sistema più performante del mondo il nostro più grande problema è trovare talento trovare persone che sono in grado di lavorare con noi è un dramma ora il tema del talento è un tema strategico io sono perfettamente convinto che uno dei motivi per cui l'Italia oggi fa fatica a competere sull'arena internazionale è proprio per la mancanza una cultura tecnica di una mismatch fra ciò che l'industria ha bisogno e ciò che il paese produce però e spero di avervi convinto durante questa presentazione penso anche che i laureati nelle Humanitas siano portatori sani di un enorme talento quel talento di cui discutevamo prima la tecnologia del dialogo la capacità di porre domande radicali la capacità di non accontentarsi dell'ovvio che sono quelle metacompetenze che sono state descritte nelle presentazioni precedenti così bene che sono vitali queste competenze della vita che diventano anche competenza sul lavoro noi quando assumiamo qualcuno cerchiamo un uomo su cui poi costruiremo un tecnico ma sappiamo benissimo che se non abbiamo l'uomo il tecnico che ne uscirà sarà mediocre non ce ne facciamo nulla quindi in realtà quello che voglio dirvi è che io ritengo realmente che un ragazzo oggi che ha una buona relazione filosofica sia una sorta di Ferrari che forse mi farà un po' fatica all'inizio ma messa in pista riuscirà a funzionare molto bene come si fa a mettere in pista questa Ferrari come dire ancora senza ruote beh nel nostro settore è importantissimo che ci aiutate cioè noi abbiamo bisogno di talenti e voi talenti lo siete però c'è un pezzettino c'è uno scalino iniziale di quello che accennava Cecilia è di quello che è stato detto è uno scalino imprescindibile fortunatamente se vi siete come dire rotti la testa su Eagle avete passato notti su Kant vi siete dilettati con Spinoza beh non saranno degli scalini insormontabili ma ci sono ed è meglio saperli il primo è la lingua inglese è inutile dirlo è quasi imbarazzante dire un'ovità di questo genere però è impossibile non saperlo un secondo punto importante un'alfabetizzazione numerica oppure una numerizzazione di base chiamatemi come volete ma per favore inserite nel vostro piano di studi una serie di esami relativi per esempio alla statistica di base è impossibile oggi ma non solo per chi vuole lavorare la tecnologia ma per chi vuole capire il mondo sapere che cosa non è che cosa è una distribuzione che cosa è una media ponderata frequentate affollate i corsi di logica in seguito è proprio Sant'Agostino fate logica fate teoria delle decisioni cioè fate anche delle cose che sono abbastanza vicine al mondo tecnologico vi permetterà di avere un curriculum forte in cui i come dire i selezionatori guarderanno con attenzione terzo punto coding games la terribile parola la programmazione allora non abbiate paura veramente oggi investire un po' del vostro tempo qualche mese da neolaureati da laureandi per passione a imparare a programmare su alcuni linguaggi anche semplici se avete voi python per chi si recupera di dati o per chi veramente vuole imparare l'esperanto del mondo tecnologico in java è uno dei migliori investimenti che voi ne possiate fare come si fa è facilissimo ci sono molte piattaforme di e-learning di apprendimento a distanza facili con corsi straordinari costa 20 o 30 euro un corso di java fatto su demi cursera e così via oppure ci sono liberi le grandi università americane l'MIT Stanford Harvard hanno decine di corsi dove potete imparare a programmare imparare la tecnologia non è cioè non c'è scusa per non farlo e non sono appunto così difficili come potrebbero sembrare e poi fate i coding games coding games sono delle piattaforme divertenti in cui c'è una gamificazione della programmazione ci sono gare comunità intere insomma veramente oggi l'ignoranza non è scusabile è facile quindi concludo dicendo che se vi abbiamo poi interessato su questi temi e ne volete continuare a parlare con noi direttamente potete contattarci scriverci saremo lietissimi di raccontarvi di più e di indirizzarvi nel mondo tecnologico spero di non avervi annoiato troppo e grazie per la vostra attenzione grazie grazie molto Andrea grazie Cicilla siete stati estremamente chiari e ci avete aperto ecco almeno per me un mondo del quale ignoravo tutto e rispetto al quale avete suscitato una positiva curiosità e penso che sia lo stesso anche per gli studenti c'erano un pari di domande vi chiedo sempre di essere estremamente sintetici perché il tempo sta veramente correndo e vorrei lasciare spazio adeguato anche agli altri più interventi che ritorneranno su dei temi precisi riguardo al mondo della scuola e dell'editoria ecco una domanda ci sono un pari di domande riguardo a piattaforme e linguaggi mi pare che Andrea abbia risposto per quanto riguarda i linguaggi di programmazione magari se se volete mettere qui sulla chat qualche consiglio rispetto a piattaforme di learning per il java eccetera eccetera e invece appunto avete detto già java e python se ho capito bene come possibili strumenti invece c'è una domanda un po' più generale per entrambi anzi una doppia domanda che vi sarà per occo che dice potreste descrivere una giornata tipo di un data analyst e quanto tempo impiegate per elaborare un progetto parti tu Cecilia allora devo dire che io sono alle prime armi cioè questa è la premessa base perché appunto io non sapevo programmare quindi forse non posso descrivere esattamente posso dire analista con il quale lavoro ecco preferirei metterla così allora c'è tutta c'è un po' è quello che ho descritto quindi c'è una parte forse che non ho detto è il contatto col cliente infatti c'è un continuo dialogo col cliente per capire esattamente che cosa vuole e questo non è facile cioè io spesso vedo questo mio collega Tommaso che deve aiutare il cliente a capire che cosa vuole quindi anche questa è una parte interessante una volta definito qual è lo scopo del progetto appunto c'è tutta una parte di ricerca di dati quindi di ricerca in rete trovare non è capitato questo anche personalmente di andare a cercare sui vari siti statistici non so in Italia abbiamo l'istato credo adesso non vorrei dire una cavolata però insomma andare a cercare su vari siti dei dati una volta fatto questo la raccolta di questo viene automatizzata ovviamente quindi si produrrà un mini programmino che interagisce col programma e si si raccolgono questi dati poi appunto c'è tutta la parte dell'elaborazione cioè abbiamo questi dati che vengono arricchiti quindi appunto da una parte li abbiamo arricchiti con considerazioni statistiche e altre dall'altra appunto c'è questa parte di elaborazione che non vuol dire semplicemente faccio il programmino che gli elabora ma una cosa che è capitata recentemente è che dovessimo trasformare un insieme di dati categoriali il che vuol dire non so esempio professioni ok io ho una lista di professioni ma non posso dare questa lista al programma e devo trasformarlo in valori numerici e questo non lo so quando ho visto questo mi si sono illuminati gli occhi perché è un problema interessantissimo cioè se io do un semplice se io assegno valori tipo un due tre quattro sto introducendo delle informazioni perché sono ordinali e non ha senso quindi trovare queste cose e poi c'è tutta la parte di controllo dei risultati quindi più o meno è interessante perché è molto variabile dipende dalle fasi del lavoro eccetera eccetera benissimo una risposta telegrafica soltanto appunto quanto tempo per un progetto che è una domanda curiosa forse andare a può dirci in realtà noi abbiamo l'unità nostra di misura è l'anni uomo quindi questo vi dà un'idea un progetto informatico complesso come quello che avete visto prima ha richiesto decine di persone per qualche anno di lavoro quindi diciamo che la risposta è abbastanza benissimo ascoltate direi che appunto il tempo sta correndo vi invito quindi Andrea magari se vuoi puoi integrare nella chat qualche riferimento a piattaforme eccetera e vi invito credo che vi date tutti le domande quindi potete tranquillamente rispondere lì e vi invito anche invito gli studenti nel caso fossero interessati a avere informazioni ulteriori e anche a capire magari quale tipo di formazione integrativa stia seguendo Cecilia anche per appunto per aumentare acquisire delle competenze digitali specifiche ecco potete tranquillamente contattare Andrea o Cecilia e vi daranno delle informazioni diciamo ad hoc la domanda sulle competenze digitali la riprenderemo anche più tardi sicuramente con Lidia e anche forse con Franco Gallo quindi ritornerà ma ecco abbiamo già avuto una prima risposta rispetto al vostro settore poi l'articoleremo anche negli altri settori direi appunto di continuare perché il tempo sta veramente correndo e quindi darei la parola a Franco Gallo dopo aver ringraziato di nuovo Andrea e Cecilia per questa bellissima presentazione e appunto siamo stati estravaganti per qualche minuto ritorniamo più tradizionali con Franco Gallo perché appunto ci parlerà di un sbocco diciamo professionale tipico per i nostri laureati che è quello della scuola dell'insegnamento quindi e poi a seguire l'Idea Salerno che ci parlerà invece di un altro sbocco che è tipico diciamo di fatto anche se non in principio che è il mondo dell'editoria quindi anche lì torniamo un po' forse più estravaganti ma in un ambito forse più noto e più comune anche nell'esperienza dei nostri studenti Franco Gallo ha lei la parola che lei si ha bisogno per la presentazione ma credo sia autonomo Sì grazie dell'invito e buongiorno a tutti i partecipanti sono lieto di poter portare la voce diciamo anche del ministero dell'istruzione di cui faccio parte come dirigente tecnico quello che una volta si chiamava ispettore sono diciamo così della vostra parrocchia perché anch'io ho studiato filosofia mi sono laureato in questa stessa università e ho svolto all'attività di docente di dirigente scolastico quindi parlo come dire dall'interno sostanzialmente dell'intera filiera del settore vi mostro una rapida serie di diapositive cercando di stare nel quarto d'ora vediamo cosa riesco dunque condividi desktop devo scegliere la l'immagine ditemi che la vedete no no non si vede e allora non mi dà la possibilità di condividere solo la finestra però l'intero desktop quindi diventa un po' problematico vediamo se adesso riesco no direi che vuole che se le manda lei allora gentilmente facciamo facciamo prima perché vedo che mi manca l'opzione per qualche strano strano motivo dunque sarò brevissimo nel dirvi innanzitutto che fare il docente certamente è una professione tipica degli studenti di filosofia una volta che si laureano sboccano rapidamente nell'insegnamento però questa professione è una professione particolarmente come dire ambita perché rappresenta un segmento che occupa oggi in Italia circa un milione di persone solo per conferma è stata visualizzata io al momento non la non la vedo però non lo so voi la vedete no al momento non si vede allora direi scusate allora passiamo onde non perdere tempo vi illustro la cosa poi eventualmente vi lascerò le slide facciamo probabilmente facciamo prima dunque innanzitutto è un mestiere che l'anno nel 2019-2020 ha occupato a tempo pieno precario circa un milione e centomila persone nei diversi segmenti e tipologie quindi parliamo di insegnamenti che vanno dalla scuola dell'infanzia fino all'istruzione degli adulti che vanno dall'istruzione e formazione professionale regionale fino alle scuole secondarie di secondo grado pertanto si tratta di un campo occupazionale particolarmente ampio nel quale però non è facile come sapete benissimo entrare perché c'è una pressione molto forte e si tratta di un posto di lavoro che una volta che si riesca ad ottenerlo a tempo indeterminato nel segmento pubblico rappresenta sostanzialmente una garanzia di carriera e di occupabilità che non è facile trovare al giorno da oggi vorrei aggiungervi anche che l'85% del comparto circa determinato dalle circa 8200 istituzioni scolastiche statali il restante dal sistema delle scuole paritarie e non paritarie quelle che un tempo si chiamavano centri di preparazione ma non entro adesso nei dettagli molto probabilmente a ciascuno di voi per ragioni che espliciterò a breve interesserà maggiormente il sistema della scuola statale a cominciare dal fatto che c'è un delta retributivo a favore dell'impiego pubblico che è particolarmente significativo quello della scuola statale è un lavoro come dire che da una parte ha una dimensione burocratico professionale diciamo così weberiana con un'attività diffusa distribuita che si svolge più o meno nello stesso modo dovunque dal mondo vi fino a catania attraverso strumenti che sono sostanzialmente sempre i medesimi cioè l'attività amministrativa sostanzialmente che consiste tra l'altro nel portare gli studenti attraverso il sistema delle valutazioni a superare gli anni di corso e a conseguire titoli di studio d'altra parte però è un'attività anche che va svolta in modo specifico tecnicamente informato e operativamente connesso alla concretezza del gruppo di studenti che ci sono vivi e affidati che non possiamo non svolgere anche in una relazione organica continua sistematica con gruppi di colleghi spesso fortemente variabili quindi un mestiere contemporaneamente diciamo così burocratizzato e centralizzato quanto la sua modalità di esecuzione perché risponde a una dimensione amministrativa standard dall'altra parte però un mestiere che stimola in modo inevitabile al lavoro di gruppo al confronto con la diversità dell'altro al rapporto concreto con persone in carne d'osse al soppesamento dei loro bisogni della loro potenzialità tutto questo ovviamente fa sì che quella che è la dimensione contrattuale oggi esistente per i docenti col contratto scuola 2016-18 che prevede canonico impegno professionale di 18 ore per le scuole secondarie superiori come insegnamento diretto più gli adempiamenti individuali più gli obblighi contrattuali di servizio per le attività collegiali rappresenti un diciamo così uno spaccato poco attendibile di quello che in realtà è il lavoro del docente il lavoro del docente è difficilmente configurabile soltanto nel contesto di quella descrizione tipica degli orari di servizio degli adempimenti individuali degli obblighi per le attività collegiali aggiuntivi deve essere spaccato e tale rimane per chi lo affronta e anche qui torno su un tema molto importante con un'adeguata spinta vocazionale perché non è un mestiere da missionari ma non è un mestiere che si può scegliere esclusivamente in come dire in quanto rappresenti di fatto una buona garanzia di occupazione permanente e questo perché mi preme dirvelo la professione docente è una delle più esposte al disagio mentale professionale al burnout alla tipica come al tipico logorio dato da un sovraimpegno di risorse emotive comportamentali caratteriali che vengono molto mal spese quando manca una struttura di personalità o alcune dimensioni tecniche di base nell'offrirla detto tutto questo vi voglio solo ricordare che al centro della professione docente oggi come anche riportato nel contratto collettivo nazionale 2016-18 c'è il concetto di comunità educante cioè noi non possiamo più immaginare la dimensione dell'insegnamento come una dimensione di professione professorale in cui un singolo che si riconosce in una disciplina come tale anche la professa ma dobbiamo per forza di cose tenere presente che la professione che noi svolgiamo è la professione docente cioè di guida sviluppo verso un determinato traguardo di apprendimento degli studenti che ci sono affidati e questo lo facciamo in un contesto ripeto comunitario solo per darvi troppo lo troverete nel slide comunque un piccolo punto di riferimento diciamo così concreto sappiate che la carriera di un docente laureato in una scuola secondaria superiore sarebbe il vostro caso oggi ha un delta importante tra il primo anno di servizio e l'ultimo che si quantifica intorno a circa 1030 euro mensili lordi di differenza e 100 euro mensili lordi di differenza circa della retribuzione professionale aggiuntiva che riconosce diciamo così gli obblighi aggiuntivi che il docente si assume per il fatto che la sua professione non termina normalmente quando ha cessato di fare lezione e questo rappresenta indubbiamente dato che l'ingresso è a 1820 lordi più 175 di rpd di riproduzione professionale aggiuntiva e un 2850 più 280 alla fine carriera un delta significativo non così significativo come può avvenire all'interno di altri contesti del mondo del lavoro tuttavia importante come stipendio di primo ingresso andiamo intorno ai 1980 euro lordi rappresenterebbe comunque vada una soglia d'entrata non banale ovviamente c'è una cosa che dovete sapere la dimensione di massa dell'insegnamento preclude cioè restringe fortemente poi l'imbuto a valle circa lo sviluppo di carriera a fronte di circa 900.000 docenti che operano nel contesto della scuola italiana ci sono soltanto meno di 7.000 dirigenti scolastici in servizio che hanno una struttura professionale e retributiva decisamente più importante sono pochissimi come me i dirigenti tecnici in servizio sono gli ispettori ministeriali per qualche motivo quella che era una professione che un tempo assorbiva almeno un migliaio di persone in Italia negli anni 60 e 70 oggi si è ristretta a poche decine di noi che ancora conservano questo ruolo quindi non esiste obiettivamente una dimensione di carriera come dire facilmente pronosticabile anche per docenti particolarmente validi è vero che nel contesto della scuola le funzioni di un docente non si chiudono esclusivamente nella parte come dire tecnico-didattica della sua proposta agli studenti ma comprendono tutta una serie di mansioni organizzative operative di collaborazione di sviluppo quelle che si chiamano funzioni strumentali o figure di sistema che possono andare altresì a integrare la vostra eventuale piattaforma retributiva secondo quantificazioni che vengono decise esclusivamente nel contesto delle contrattazioni di istituto questo allora per dirvi che deve esistere da parte vostra una forte motivazione alla ricerca culturale all'affinamento delle tecniche didattiche del rapporto strutturale con colleghi e studenti per trovare una soddisfazione duratura in questo tipo di mestiere questa è una primissima decisione che va presa nel senso che insegnare porta certamente a confrontarsi con problemi molto concreti di gestione di risorse umane nel proprio perché valorizzare i propri studenti significa sostanzialmente valorizzare le risorse umane in vista dei risultati tuttavia non è una professione che si può svolgere in modo sistematico per un'intera carriera se non si contempla chiaramente la possibilità molto concreta che questa professione rimanga come dire la medesima per l'intero sviluppo della propria vita professionale ovviamente è una professione che ha dei cambiamenti notevolissimi al suo interno e che affronta dovuti all'avvicendarsi dei profili generazionali e non sapere gestire tecnicamente questo rapporto con i diversi profili generazionali che via via si avvicendano nel corso della nostra carriera è uno degli elementi tipici di fallimento degli insegnanti perché quando si comincia ad insegnare ad un'età relativamente giovane la struttura di personalità e l'orizzonte degli interessi e della propensione verso il mondo sono ancora abbastanza simili a quelle delle generazioni con le quali ci confrontiamo con l'andare del tempo ovviamente questo non accade più e o si dispone di determinati strumenti tecnico-pedagogici ben preciso altrimenti si rischia di fare di fare veramente fatica vorrei essere molto sintetico tentando di concludere su un punto fondamentale se mi domandaste oggi cosa fa idealmente un docente un docente non insegna una disciplina questa è la prima cosa che io tengo a dire sempre a tutti i professori o quelli che vogliono ancora chiamarsi così oggi la normativa dice chiaramente della normativa decisa con democratica legge dello Stato per cui in essa noi ci riconosciamo che lo scopo dell'intero come dire sviluppo del sistema dell'istruzione consiste nel creare il profilo di apprendimento dello studente in uscita lo trovate nei DPR 87, 88 e 89 sui tre ordinamenti tecnico-professionale liceale del sistema di istruzione secondaria e superiore lo trovate in tutti in tutta la normativa che riguarda i diversi cicli dell'infanzia primaria secondaria di primo grado e scuole medie non si tratta più di considerare che la dimensione istruttiva della disciplina abbia come tale un effetto educativo ma esistono definiti nel contesto della norma dei profili ideali di apprendimento in uscita che vorrebbero stimolare da parte dello studente l'apprendimento di conoscenze e abilità trasformabili in atteggiamenti o in competenze alle quali ci viene chiesto di collaborare perché appunto vengano ottenute realizzate prese in coscienza ed esercitate dagli studenti per questo è fondamentale tenere presente che il lavoro collettivo dei docenti è assolutamente la più importante di tutte le attività che uno possa svolgere oggi a scuola e come dicono le ricerche internazionali in particolare quelle del professor John Hertie che è forse il più noto metanalista di effetti positivi o negativi delle tecniche pedagogiche la collective teacher efficacy cioè la capacità di un gruppo di docenti di lavorare insieme in modo efficace è il più grande moltiplicatore del valore dell'insegnamento vale circa otto volte l'impiego delle tecnologie una quindicina di volte con degli audiovisuali è il doppio del lavoro individualizzato e questo dall'idea dalla misura di quanto sia importante il confronto con i colleghi ovviamente e lo aggiungo non è possibile prescindere in alcun modo anche qui torno su qualcosa che c'è stato detto dal dominio completo dal possesso della materia è imprescindibile nel senso che solo il possesso della materia permette di selezionare in modo coerente quei profili di cernita dei contenuti e di individuazione degli elementi culturali che sono indispensabili per il gruppo con il quale dobbiamo operare ma l'insegnamento però è un mestiere ha una dimensione specifica tecnico-operativa che deve essere dominata oltre e al di là del processo della materia ecco c'è una cosa fortunata e concluderei come diceva Daniel Goldman come l'intelligenza motiva anche la tecnica didattica che possiamo dividere in tecnica di darsi d'aula di insegnamento di scaffolding cioè di sostegno collaterale al processo di apprendimento e soprattutto di assessment di valutazione questa tecnica è virtualmente tutta appresa questa è un'ottima notizia nel senso che possiamo impararla è una pessima notizia se non la vogliamo imparare perché nel 99% dei casi come ahimè apprendiamo ad essere genitori dei nostri genitori possiamo essere più o meno fortunati tendiamo ad essere insegnanti a fine dei nostri insegnanti non è necessariamente una buona cosa anzi vi garantisco nel 99% dei casi non lo è assolutamente non solo perché come sta dimostrando questo periodo attuale la necessità di confrontarsi con dimensioni strumentali che diventano anche ambientali assolutamente importanti ma perché la tecnica didattica corre si sviluppa in modo sempre più grande dalla come dire dagli stessi sistemi che vengono utilizzati oggi nei contesti della formazione non solo aziendale e professionali sono stati mutuati nel contesto di istruzione scolastica parecchie tecniche parecchie forme non ho il tempo di ripercorrere questo discorso ma vorrei solo invitarvi a considerare per concludere la professione insegnante è una professione certamente per voi accessibile una professione sulla quale va fatto in un arco di tempo abbastanza breve ha preso una decisione cioè se vogliamo affidarci a questa professione per un'intera vita ed allora dobbiamo sapere che potremmo seguire questo mestiere per lungo tempo ma dovremmo essere in grado di fare tutta una serie di aggiustamenti nostri psicodinamici tecnici che ci permettono di continuare ad esercitarla nel tempo con la medesima efficacia detto questo chiudo ricordandovi solo che attraverso un'analisi attenta di quelle che sono tutte le dimensioni relative alla come dire presenza o meno di crediti formativi relativi alle richieste di vari tipi di insegnamento il docente lo studente laureato nelle vostre discipline può concorrere non soltanto alla classe di insegnamento a 018 a 019 filosofia storica e filosofia pedagogia ma anche a molte altre classi ovviamente però piegando il proprio pieno di studi in una maniera che potrebbe al momento non esservi del tutto gradito trasparente su questo vi aiutano ovviamente i servizi universitari direi che ho finito quindi grazie per l'attenzione grazie mille è stato molto molto chiaro non so se appunto se la visualizzazione è andata in porto in ogni caso magari se lei non ha obiezioni metteremo le slide tra i documenti del gruppo così sicuramente se possono metterlo ve lo mandate apposta perfetto c'è una domanda e c'è una domanda che anche per lei è un intervento molto utile anche molto chiaro su alcuni punti che magari di solito vengono passati sotto silenzio nelle presentazioni sul mondo della scuola una domanda non so se la vede qui di fianco di Sebastiano Di Cilis che chiede se è possibile avere un suo intervento Franco Gallo sulla relazione tra il fornire un'educazione e conferire competenze agli studenti nei vari livelli nella prospettiva sia dell'insegnamento del mondo dell'inserimento del mondo del lavoro sia della formazione dei cittadini quindi una domanda un po' su rapporto tra educazione e competenze e sarò sarò brevissimo su questo nel senso che come sapete intorno al concetto tecnico pedagogico di competenze si è acceso un dibattito che è stato inevitabilmente inasprito dal fatto che il concetto è stato assunto in documenti amministrativi programmatici di vari ministeri di varie istituzioni anche sovranazionali non c'è dubbio che nel momento in cui noi come scuole autonome siamo stati spinti dal ministero alla ricerca della come dire di una forma didattica che agevolasse l'interiorizzazione delle competenze ci siamo spostati moltissimo dalla dimensione istruttiva di pertanto propedeutica ginnasiale in fondo ad una alla quale si volesse far sì che gli studenti per capirci apprendessero fatti e nozioni mentre li utilizzavano per risolvere qualche problema per fare un determinato procedimento attivo di ricerca è in fondo stata una svolta verso l'attivismo pedagogico che è un po' sempre stato all'interno della scuola italiana un grande cavallo di battaglia della scuola dell'infanzia penso al mondo montessoriano o pizzigoniano ed invece purtroppo molto meno in altri contesti non c'è dubbio che è molto difficile diciamo così trovare nella scuola probabilmente anche come l'abbiamo frequentata noi esempi concreti di questa applicazione però in tempi recenti vi garantisco che la diffusione di metodi come la deprecata per me è assolutamente non deprecabile invece alternanza scuola lavoro come il frequente utilizzo del metodo del GIGSO come il service learning come la didattica della ricerca come la didattica breve come il problem solving come il debate stanno diventando nelle classi delle scuole italiane delle come dire esperienze estremamente frequenti quanto più queste esperienze si moltiplicano e sono condivise tanto meglio è però ritorno sul punto fondamentale cioè molto probabilmente un team docenti che opera in maniera del tutto rhapsodica dove un docente applica una metodica un altro e un altro un altro e un altro ancora un team docente che farà otterrà un risultato pessimo paradossalmente sarebbe meglio che fossero tutti dei docenti diciamo di un collegio del francese gesuita del settecento perché almeno avrebbero una unitarietà come dire di proposta agli studenti quindi invito chi ecco grazie per la domanda e invito appunto sempre a cercare nel caso dell'insegnamento non la metodica ideale migliore ma quella concreta che io potrò nel migliore dei modi gestire con il livello di competenza dato dai miei colleghi in un certo periodo di tempo grazie mille mi pare un'ottima risposta ed è un punto appunto che che bisogna tenere da conto soprattutto se alcuni studenti capiterà alcuni studenti capiterà di ottenere alcuni crediti in didattica della filosofia che sono uno dei corsi che ho inserito nella formazione di così il tifro 24 cioè i 24 crediti che vengono richiesti per poi accedere al concorso per l'insegnamento della scuola secondaria avrete molte informazioni su tecniche più o meno contemporanee più o meno sviluppate o più o meno affascinanti però ecco va tenuto conto anche di questa dimensione molto concreta e anche sull'efficacia poi di queste tecniche quando vengono applicate in maniera isolata o estemporanea o non coordinata in ogni caso grazie mille direi che siamo perfettamente nei tempi quindi possiamo cedere la parola all'ultimo intervento di oggi eccoci qui buongiorno Lidia direi che buongiorno mi sentite perfettamente hai a disposizione diciamo avevamo previsto una conclusione verso le una quindi hai tranquillamente a disposizione tutta l'ultima faccia cercherò anch'io di stare nei tempi e invito di nuovo i studenti se vogliono intervenire durante la comprensazione con delle domande nella chat perché immagino che molti di loro siano curiosi rispetto a quello che ci racconterà e quindi non esitate a scrivere cercheremo di accogliere domande e di convogliarle verso Gidea cercherò allora di essere sintetica e di lasciare in qualche minuto anche alla possibilità rispondere alle domande va bene innanzitutto ringrazio per l'invito i docenti di questo dipartimento presso il quale nel lontano 1990 mi laureai in filosofia con una tesi in storia della filosofia medievale adesso vi racconto brevemente molto brevemente che cosa ho fatto successivamente sono scivolata poco a poco nel mondo dell'editoria perché ho cominciato a fare delle collaborazioni esterne con gli editori che in larga misura gravitano sul contesto milanese e ho fatto delle traduzioni e delle letture e affinché nel 1993 mi capitò l'occasione di essere assunta come redattrice alla saggistica Mondadori da allora e ancora oggi ho sempre lavorato all'interno di grandi case editrici cosiddette generaliste ossia quelle che si rivolgono al grande pubblico dei lettori sono poi diventata capore d'attrice sempre per Mondadori per passare in seguito a Sonzogno con un ruolo di affiancamento del direttore editoriale e successivamente sono diventata editor di varia e saggistica per Rizzoli ovvero editor della non fiction che è una categoria con cui si intende tutto ciò che non è fiction cioè non è storia di invenzione ma che ha un legame con la realtà questo è un tema su cui tornerò più avanti mettetelo un attimo in frigorifero quello di cui vengo oggi a parlarvi è il mestiere che faccio e lasciatemi dire che amo che è il mestiere dell'editor un mestiere che negli anni ho visto radicalmente cambiare perciò quello che oggi più mi preme trasmettervi sono i caratteri di questa trasformazione per cercare di mettere a fuoco la situazione attuale e darvi degli spunti per immaginare degli scenari futuri per fare tutto questo vi chiedo un po' di pazienza dovete permettermi di ripercorrere qualche decennio di storie in cui ho colto dei punti nodali non vi racconterò tutto state tranquilli ma ho enucleato dei passaggi fondamentali in particolare in particolare due mutazioni genetiche che hanno irreversibilmente trasformato il contesto in cui se vorrete lavorare nell'editoria dovrete andrete a misurarvi risaliamo alle origini dell'impresa editoriale le case editrici sono diventate gradualmente delle aziende che vendevano generavano reddito e quindi potevano offrire lavoro soltanto nel secondo dopoguerra in particolare a cavallo tra i 50 e i 60 era un mondo ancora pienamente analogico e con una chiarissima distinzione dei ruoli sociali che cosa vuol dire vuol dire che i professori universitari facevano i professori universitari facevano gli studiosi i giornalisti facevano i giornalisti e scrivevano tendenzialmente solo sui giornali i cuochi cucinavano e non andavano in tv né tantomeno pubblicavano best seller con la loro faccia in copertina e i cantanti cantavano e non si atteggiavano a metrate in sé ebbene in quel momento fondativo anche gli editori facevano gli editori cioè sceglievano selezionavano curavano testi nella piena libertà di determinare una politica culturale pensiamo ai mitici Giulia Inaudi Calvino Pavese Natalia Ginzburg che facevano i famosi mitici comitati del mercoledì erano loro a scegliere per il pubblico con la forza delle proprie convinzioni non si facevano condizionare dai gusti del pubblico erano loro a forgiare quei gusti e che cosa sceglievano attigevano anche lì nel rispetto dei ruoli sociali la saggistica ben diversa da quella che ora è non fiction di cui vi ho accennato poco fa era data dai libri dei professori dagli studiosi autorevoli la narrativa passava attraverso dei severi filtri di qualità e solo così potè dare origine a una generazione letteraria che oggi ci sogniamo i nomi sono troppi da accettare ma pensate solo a Buzzatti Bassani Flaiano Pratolini Tomasi di Lampedusa questa narrativa alta era affiancata da un ottimo lavoro anche quello a posteriori possiamo dire di grandissima qualità per le letture di intrattenimento le cosiddette letture di genere nacquero così già le Mondadori successivamente Urani alle Collane Rosa questi sono anche gli anni di Fernanda Pivano che importa gli americani di Gian Giacomo Feltrinelli che per primo nel mondo pubblica il Dottor Zivago di Pasternak questa è una grande avventura editoriale che se non conoscetevi consiglio di andare a cercarvi qui non ho tempo di raccontarvela questi editori puri erano dei pionieri erano liberi nelle loro scelte ed erano anche allo stesso tempo intransigenti nella qualità del lavoro di curatello di revisione erano dei veri operatori culturali ebbene sappiate che da allora sono cambiate tante cose e che gli editori pionieri si sono estinti erano delle figure archetipiche che appunto abbiamo visto nella fase di genesi dell'impresa editoriale poi come sta a questo mondo i fattori economici l'evoluzione dei canali di comunicazione hanno determinato una trasformazione di contesto che necessariamente ha influenzato l'editoria cambiandone radicalmente i modelli vediamo come la prima frase di trasformazione irreversibile di cambiamento di pelle dell'editore avviene più o meno a partire da metà degli anni 90 fino a poco prima di quell'epoca cioè fino a poco prima del metà degli anni 90 editori come Mondadori Rezzoli o Feltrinelli erano stati delle gran belle aziende che davano lavoro a tanti redattori editor addetti marketing grafici e via dicendo facevano infatti un sacco di soldi grazie ai grandi best seller tanti anche qui impossibile citarli tutti ma pensate solo a Eco col nome della rosa Cundera con l'insostenibile leggerezza bell'essere o ai libri di Enzo Biagi di Giorgio Bocca e con questi best seller riuscivano a portare a termine un altro compito fortemente culturale dell'editore tenevano aperto l'enorme cantiere di lavoro del catalogo pensate a quale importanza fondamentale abbiano avuto collane come Gioscar Mondadori o Labur questo era ancora un lavoro da operatori culturali ed era diventato industriale e anche quella di fine millennio è un'epoca ancora analogica le redazioni sono strutturate si lavorano notando le correzioni sulla carta io ebbi la fortuna di cominciare allora nella redazione della saggistica di Mondadori imparai dall'ABC come si cura confeziona costruisce un libro me lo insegnò qualcuno che lo sapeva fare questo è un privilegio che voi non avrete se vorrete lavorare con i libri dovrete cercarvi qualcuno che vi insegni e non sarà facile trovarlo perché oggi le redazioni sono state smantellate quel lavoro di fino viene appaltato agli studi editoriali dove c'è molto meno controllo ma perché è successo questo? perché gli editori in un'epoca di progressiva accelerazione hanno ritenuto più importante la velocità nella caccia all'autore al talento al bestseller straniero che alla cura dell'edizione un lavoro che esige lentezza quindi dovendo tagliare le spese hanno deciso di conseguenza questo è stato un fenomeno graduale ma torniamo alla metà degli anni 90 come l'epoca della prima mutazione genetica dell'editoria perché avviene questa mutazione genetica perché si alimenta si fa esplodere la varia la varia è quel genere in cui si inseriscono i libri di autori che nella vita non fanno gli scrittori ma qualsiasi altra cosa il genere era stato in realtà inventato 10-15 anni da un editor geniale della Mondadori Paolo Caruso che aveva scoperto fra i molti autori bestseller Luciano De Crescenzo De Crescenzo forse come riflesso della società che stava cambiando era un autore che non rispondeva più a un unico ruolo sociale determinato cioè se pensiamo uno scrittore non era né un romanziere né un saggista era un ingegnere amante della filosofia antica affabulatore voce della napoletanità però bisogna dire che era ancora un personaggio antico perché i suoi libri scritti da lui e non da un ghostwriter cosa che oggi è comunissima venivano venduti anche perché il pubblico ne apprezzava i contenuti la varia però da metà degli anni 90 prende irreversibilmente un corso diverso rispetto a quello di De Crescenzo il corso dei libri feticcio dove cioè conta che l'autore sia un personaggio famoso abbia tanti fan mentre il contenuto è secondario c'è stata per esempio a cavallo tra gli anni 90 e il primo decennio del 2000 all'epoca dei comici di Zedig erano libri fatti di nulla bastava sbattere la foto di Aldo Giovanni Giacomo in copertina e si finiva in top 10 ecco perché ho definito questo passaggio un cambiamento di pelle perché rispetto agli editori pionieri che facevano cultura andando loro a forgiare i gusti del pubblico qui i nuovi editor cercano quelli che sono già idoli del pubblico e li pubblicano ovvero vanno a compiacere i gusti del pubblico questo vuol dire attendere che si aprono le porte dell'editoria un po' a tutti purché famosi purché già con un pubblico consolidato e vuol dire che l'autore va spesso affiancato da un ghost writer o un ghost writer o un giornalista perché da solo non sarebbe in grado di scrivere il proprio libro un'ulteriore conseguenza dell'attitudine a compiacere i gusti del pubblico è l'intasamento del mercato succede infatti spesso che appena si scopre un best seller per esempio il metodo danese per educare i bambini questo che vi cito è un caso vero subito dopo tutti gli editori si scatenano con i cloni e così esce il metodo finlandese il metodo norvegese svedese letto nesto nel lituano che poi alla fine in genere si dimostrano tutti dei flop così non solo si appatte una bella fetta di amazzonia ma si affollano i banchi delle librerie di una quantità eccessiva di titoli con una qualità contenutistica inevitabilmente scarsa rendendo difficile all'acquirente distinguere un libro da un altro nel mare magnum non si trova più nulla è come cercare un ago in un pagliaio la varia poi ha contagiato anche gli altri generi nelle classifiche di narrativa sono entrati i romanzi di personaggi noti pensate a un Fabio Volo ma è stata soprattutto la saggistica a cambiare ancora di più trasformandosi a poco a poco come dicevo all'inizio in non fiction ovvero in quel genere che accoglie tutto purché sia arrivato dalla realtà i filoni di cambiamento sono stati diversi fra gli autori gli studiosi hanno sempre più lasciato il posto ai giornalisti per le inchieste ma anche per parlare d'altro per esempio c'è un Aldo Cazzullo che un anno ci racconta le donne eroe l'anno successivo parla di Dante Legheri come se fosse Sermonti oppure D'Aria Bignardi che si sofferma sul luto della perdita della madre e ancora sempre nella non fiction gli studiosi hanno lasciato il posto ai divulgatori fra i quali poche ma eccellenti firme da Alberto Angela Pier Giorgio Di Freddi Alessandro Barbero hanno avuto successo perché hanno avuto la capacità di esporre in maniera più semplice e anche più divertente di molti professori che magari conoscevano la materia molto meglio di loro ma non è finita nello stesso genere saggistica non fiction sono stati inseriti in memoir un fenomeno per cui oggi per esempio nella classifica di saggistica di questa settimana al quarto posto trovate infame il libro di Ambrangiolini che racconta la propria esperienza di bulimia è tutto realtà su questo terreno a partire da una decina di anni fa è intervenuta la seconda mutazione genetica di cui vi parlavo vi accennavo all'inizio ovvero quella innescata guardate un po' insomma è stato il tema il filo conduttore di tutti gli interventi precedenti quella innescata dalla tecnologia non tanto da internet che c'era già prima diciamo del 2010 ma dall'accelerazione tecnologica con il fiorire di nuovi media e soprattutto con l'esplosione di social network ecco io se avessi una bacchetta magica spegnerei i social network per sempre per una persona cresciuta in epoca analogica come me e come molti miei colleghi sono dei perniciosissimi focolai di entropia in una fase iniziale molti di noi me compresa hanno commesso l'errore snobistico di ignorarli perdendo forse più di un treno è però un dato di fatto che ora i social network ci piacciono o non ci piacciono la vostra generazione certamente li sa usare con maggiore competenza e sensibilità della mia sono diventati una dimensione con la quale non si può non misurarsi la conseguenza della seconda mutazione genetica quella tecnologica sui libri sono state fortissime per tanti ordini di fattori è difficile numerarli tutti non solo dalla televisione tradizionale come forma di intrattenimento si sono affiancate le serie puntate sulle piattaforme rubando del gran tempo alla lettura ma la gente abituandosi a una comunicazione breve da social network ha perso in termini di tempo di attenzione nella lettura e anche in termini di disponibilità mentale all'approfondimento chi oggi ancora legge dei tomi di 4-500 pagine se non forse voi che avete passato avete scelto di passare qualche anno a studiare filosofia oggi quasi nessuno più tutti saltabeccano da una notizia presa su facebook a un titolo non dico un articolo un titolo di corriere punto it il risultato è che non si privilegiano né l'andare a fondo nelle cose né l'autorevolezza delle fonti questo sta decretando la morte dei grandi quotidiani oggi nonostante abbiano cercato di adeguarsi semplificando si vengono letti nella forma integrale soltanto da pochi intellettori attuali o dagli ottantenni e allo stesso tempo ha spinto gli editor di libri ad andare sempre più nella direzione della varizzazione quella che era già cominciata appunto da metà degli anni 90 quanto ai social network non sono solo una fonte di una nuova categoria di autori di varia gli youtuber e gli influencer i cui fan vogliono i loro libri solo per poterli incontrare gli eventi di firma copia dove farsi un selfie insieme appunto sono dei libri feticcio merchandising ma soprattutto sono diventati uno strumento obbligato per chi vuole scrivere pubblicare per chi vuole dire qualcosa oggi quando noi editor scegliamo di pubblicare un libro la prima domanda che dobbiamo porci non è il contenuto di questo libro ha un valore ma quanti follower ha l'autore quanto è fidelizzato il suo pubblico l'autore potrebbe spingere il preorder o la vendita attraverso i suoi canali social quindi io potrei avere in mano qualunque capolavoro non so il discorso sul metodo di ma se René Descartes non avesse almeno 500.000 follower su Instagram non potrei pubblicarlo perché non ci sarebbe alcun modo di farlo emergere nel mare magnum di libri che ogni mese per il fenomeno dell'intasamento che vi ho accennato prima vengono riversati nelle librerie o da Amazon qui tra l'altro non c'è il tempo di affrontare il tema della mutazione anche dei canali di vendita dei libri che sono passati da una graduale chiusura delle librerie tradizionali ai megastore e poi adesso ai bookstore online Amazon in primis ma sappiate che anche questo è un tema molto critico che influenza il contesto in cui se vorrete appunto lavorare nell'editoria dovrete andare a misurarvi vi starete quindi domandando perché vi abbia raccontato tutta questa evoluzione del mestiere di editor bene perché penso che mai come oggi la nostra società abbia bisogno di bravi editor e questo ruolo sia centrale credo che vi sia ormai chiaro sia dal mio sia dagli interventi precedenti che l'editor del presente del futuro non è più il topo classico topo da biblioteca non è più il San Girolamo nello studiolo che è stato accennato nel primo intervento ma che debba avere delle competenze sulla modalità di trasmissione dei contenuti sui media vecchi e nuovi a 360 gradi cioè deve sapere come costruire il percorso di un autore o un progetto editoriale andando a cogliere a stimolare l'interesse del pubblico sì con un libro ma anche allo stesso tempo prevedendo da un lato le possibilità di promozione del libro stesso attraverso altri canali ma anche possibili sfruttamenti secondari paralleli degli stessi contenuti cioè pensare a un libro ma anche alla possibile serie su Netflix alla versione audiolibro oppure inventarsi dei link che rimandano a contenuti extra audio e video e qui via libera all'inventiva credo però che allo stesso tempo per essere dei bravi editor contemporanei si debba mantenere anche lo spirito antico dei pionieri ed è per quello che sono partita da lì si debba essere degli editor che nell'entropia di una comunicazione in mano a tutti resa esplosiva dalla tecnologia abbiano l'intelligenza e la voglia di fare delle scelte di qualità delle scelte politiche come quelle di Gian Giacomo Fentrinelli che fece conoscere il dottor Zivago per sollevare dietro il racconto di una normale storia d'amore il tema delle contraddizioni dello stalinismo editor si debba essere editor capaci pur nella fretta della nostra era di rivedere e correggere con acribie i testi cosa che come vi dicevo nell'attuale mondo liquido dovrete imparare un po' da soli perché non ci sono più le redazioni strutturate e soprattutto dovrete un bravo editor dovrà essere intransigente sulla qualità della curatela ma soprattutto sull'affidabilità delle fonti anche qui negli interventi precedenti il tema della verità e della falsificazione sono stati aperti e sono validissimi anche in questo contesto solo grazie a questo ruolo in una società che ormai è sommersa dalle fake news in un mondo travolto dalle derive populiste potrete dare al lavoro dell'editor la valenza di operatore culturale che lo nobilita aggiornata all'esigenza del XXI secolo concludo mi piace concludere citandovi richiamandomi appunto al tema dell'intervento esigenza dell'acribia che trovo siano fondamentali nello sviluppo di questa professionalità vorrei citare le parole di una collega autorevole una bravissima editrice Elisabetta Sgarbi che al funerale di Umberto Eco ha detto ti siamo grati maestro per tutte le volte che ci hai fatto notare la nostra superficialità qui chiudo ho voluto appunto farvi un racconto e spero di avervi dato degli spunti sono a disposizione ovviamente per delle domande grazie Lidia è stato non soltanto estremamente utile ma anche molto bello perché appunto penso che molti dei ragazzi magari non hanno sentito mai non soltanto nominare nemmeno nominare alcune delle figure di cui hai parlato e molti di loro forse erano un'immagine molto diversa di come si costruisce in generale un libro e di che cos'è anche il mondo della cultura inteso come un mondo anche sommari commercializzato ma per ragioni indispensabili ecco io hai fatto un quadro molto bello e anche molto spregiudicato perché appunto non hai capito di dire quello che succede di fatto dietro un'apparenza di come dire di grande selezione dei prodotti o di volontà di produrre una qualche forma di dimensione culturale ecco ecco la domanda molto spregiudicata che ti faccio anche io è in queste figure che hai evocato appunto hai sottolineato l'editor come una figura che ha delle potenzialità anche per gli studenti di filosofia ecco quanti quanti dei ghostwriter che che vedi agire sono studenti di filosofia ecco perché quella diciamo è la figura meno nobile ma appunto percentualmente presente l'hai ricordato ecco gli studenti di filosofia ecco nel tuo ambito a quali funzioni si rivolgono più tipicamente allora dal punto di vista del insomma studenti di filosofia io vedo sicuramente nella professionalità di editor che più deve unire tante competenze diverse quindi sia una sensibilità del mercato sia appunto una competenza sul lavoro ma applicandola alla supervisione di quello che è all'ideazione e poi alla supervisione delle diverse fasi di un progetto editoriale il ghostwriter è appunto diventato ormai una figura fondamentale nell'editoria contemporanea perché si quasi tutti gli editori vanno in qualche modo affiancati e quello è un lavoro che viene fatto dall'esterno come consulenza vengono pagati quindi a titolo sotto forma di pura tela è un lavoro molto delicato che richiede sia richiede molte soft skills voglio citare qualche intervento prima di me perché da un lato allora deve saper deve raccogliere e saper fare le domande giuste all'autore quindi deve guidarlo a esporre e a tirare fuori le cose giuste e non quelle sbagliate perché molte volte il racconto va in una direzione che non è quella desiderata dell'editore deve sapersi relazionare con l'autore che molte volte magari o è ostile o è insomma ha un atteggiamento che va un po' gestito quindi la capacità relazionale e la sensibilità è fondamentale dall'altro lato deve avere una duttività di penna assoluta perché non deve scrivere con la propria penna deve dare voce a qualcuno che tendenzialmente non sa scrivere però deve portare in forma corretta e accattivante un racconto che sembri che abbia la forma il ritmo le sfumature dell'autore non le proprie lo chiedevo per ragioni personali perché mi è capitato di avere colleghi ex colleghi di studenti di filosofia che avendo poi fatto una scuola di scrittura più o meno creativa si sono rivolti al settore editoria sia come autori sia come post-autori e quindi appunto non è un lavoro da impiego fisso però ormai appunto nel mondo liquido gli impieghi fissi non ci sono più però è una funzione della quale gli editori hanno enorme esigenza proprio per la mutazione di appunto il rovesciamento del ruolo nel senso che se appunto un Giulio in Audi decideva lui chi pubblicare adesso siamo noi che dobbiamo cogliere le opportunità del mercato ma siamo necessariamente influenzati dal contesto generale e quindi la politica editoriale la fa il lettore esatto e l'ultima domanda abbiamo mai siamo arrivati un po' a termine del nostro incontro l'altra domanda in un'altra sede avevi già evocato un'altra figura un'altra funzione forse quella del del dell'agente elettorale esatto allora sì poi magari appunto se ci saranno altre occasioni o se volete magari che vi dia dei contributi aggiuntivi posso anche magari produrre qualche qualche cosa di scritto cosa che non ho fatto questa volta ma allora un altro ruolo fondamentale proprio perché appunto gli autori nascono dal basso e dal dal mondo e sono non c'è più appunto il saggista che è un professore o il romanziere che è quello che va solo ai premi letterari ma sono un po' e sono personaggi esposti perché purtroppo come ho detto prima se René Descartes non ha i follower su Instagram non lo possiamo pubblicare sono dei personaggi che vanno gestiti nella comunicazione un po' a 360 gradi e vanno accompagnati molte volte tra l'altro sono persone che non è che non abbiano dei talenti ma hanno dei talenti che vanno in altri settori non so Carlo Cracco è bravo a cucinare appunto è quello che nell'era analogica cucinava e basta adesso è diventato lasciatemi dire un brand e gestire un brand in tutti gli aspetti è difficile quindi ha bisogno di un agente ci sono agenti letterari ci sono agenti del mondo dello spettacolo ci sono agenti di ogni genere ma questi personaggi che hanno un'esposizione mediatica hanno quasi sempre bisogno di essere accompagnati e quindi c'è tutto un mondo parallelo di agenzie specializzate su diversi settori ci sono delle figure professionali e per l'esperienza che vivo ogni giorno vi posso dire che ce ne sono alcuni molto competenti altri invece piuttosto improvvisati comunque ci sono persone che fanno il mestiere della gente affianca questi personaggi cercandogli tutte le opportunità di sviluppo dei propri contenuti che appunto adesso non dobbiamo più limitare al libro cartaceo ma vanno su ogni piattaforma e anche noi come editor tornando alla professionalità dell'editor abbiamo dei bei successi nel momento in cui non solo pubblichiamo un libro e questo libro va bene ma da questo libro il nostro ufficio diritti viene contattato da Magnolia o da Netflix per farne un contenuto diverso perfetto grazie mille e credo che ci possiamo salutare con queste ultime parole avrei voluto appunto dire qualcosa anch'io sul mondo del carriera universitaria o di ricerca post-laura magari lo faremo in un'altra in un'altra sede in uno dei prossimi incontri perché speriamo di poter organizzare delle altre giornate di questo tipo ringrazio di nuovo innanzitutto le persone che sono intervenute dandoci delle testimonianze molto belle molto varie avete visto gli ambiti professionali che hanno degli elementi in comune degli elementi in comune che spesso sono in sintonia con le competenze e le capacità dei nostri studenti lavorati ma che hanno anche poi delle specifiche molto variabili e ringrazio anche in maniera veramente sentita tutti gli studenti che hanno partecipato che analisti e studenti della laurea magistrale ecco le vostre domande sono importanti avete i recapiti di alcuni delle persone che sono intervenute se desiderate contattarmi anche le altre non avete che da scrivermi e vi metto vi metto in contatto grazie ancora per la partecipazione di poterci rivedere presto per un'altra riunione magari una riunione non più soltanto virtuale ma anche in presenza e di nuovo grazie a tutti gli ospiti che sono intervenuti e a le presentazioni che ci hanno offerto grazie di nuovo e interrompo la registrazione che poi appunto sarà messa a disposizione sul sito del nostro dipartimento per chi volesse visionarla e i documenti che ci sono stati offerti li metteremo tra i documenti del gruppo che ha avvocato in contemporanea a questa riunione grazie a tutti di nuovo e buona giornata e buon pomeriggio arrivederci grazie 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 professore arrivederci grazie a tutti grazie a tutti